Si dice tutto giustissimo, forse la cosa che succede è che la divina volontà è talmente vasta che ovviamente la creatura sia un pensiero, se fa una cosa, se pensa una cosa, non pensa un'altra ma la divina volontà lo sta facendo tutte, allora mi ricordo per esempio delle conferenze in cui si parlava, c'era José Acugna che parlava di Maria Santissima, dei prodigi che ha fatto la lacchia Si, allora forse quello che intendevi tu, non so se l'osservazione, la riflessione che sta facendo Carla non è tanto dire si può fare meno di fondersi dell'umanità di questo, non è possibile è soltanto che siccome noi possiamo fare atti sequenziali e possiamo parlare di una sola cosa al momento allora se ad esempio si parla dei giri nella creazione oppure di un'altra cosa allora ovviamente tutto questo è fatto solo e soltanto perché l'ha fatto Gesù non è che noi possiamo prescindere, allora quella è la cosa unica, necessaria e fondamentale e non per niente è proprio l'inizio degli scritti di Luisa che parlano degli eccessi nell'incarnazione allora fondersi nella divina volontà non è altro che rinnovare l'incarnazione del verbo in ciascuna creatura è chiaro questo? si, cioè, avevo capito male allora no, non esiste capire male, forse intendi che non è, cioè che è la, questo fondersi, questo girare, fondersi nell'umanità di Gesù è l'inizio per me è anche la continuazione è l'atto, vabbè se è l'inizio continua perché nella divina volontà vuol dire che l'atto primo, primario, necessario è essenziale senza del quale non si può fare nient'altro però quando si fa dell'altro quando la creatura applica le sue potenze dell'anima a girare negli altri arti della divina volontà ovviamente li fa solo e soltanto in quanto è unita all'operato di Gesù è chiaro, allora, forse l'inizio, non un inizio che si interrompe un inizio che la condizione sine qua non non si può fare altro nella divina volontà mi sembra che sia, diciamo, chiaro, vero? ma per quanto riguarda la creazione si può fare, cioè, non... per esempio, mi è venuto in mente vi ricordate quando abbiamo fatto un giro nella creazione? allora abbiamo, all'inizio, ci siamo fusi nell'umanità di Gesù e ci abbiamo messo un buon tre quarti d'ora per farlo in modo... poi, due ore dopo, stavamo facendo il giro nella creazione sempre e solo perché è Gesù stesso che lo fa il giro nella creazione però qualcuno se ne è dimenticato allora diceva ma scusa, noi stiamo parlando dei cani e dei gatti e Gesù? no, Gesù è chiaro, perché è lui che lo sta facendo in noi allora è la nostra memoria, no? è la priorità per dire lo stiamo facendo solo e soltanto in quanto Gesù in tanti momenti della solità, anzi, continuamente è il suo modo di pregare è quello di glorificare il Padre per ogni cosa della creazione e quante volte si è fatto da Giudea alla Palestina alla Decapoli ai monti dell'Ermon a piedi e che faceva se non diciamo, girare e glorificare il Padre riparare per tutte le creature e dare gloria al Padre unirsi, ricevere quel nutrimento, quella grazia dalle cose create perché altrimenti gli uomini cominciando da me, i peccatori noi gliela succhiamo questa grazia e allora lui aveva bisogno di nutrirsi quasi di e dove lo trovava questo nutrimento quell'abbraccio del Padre e l'amore della mamma sua che magari si trovava a Nazareth lontano lo riceveva attraverso le cose create attraverso tutto il creato allora, questi giri nella creazione per esempio giusto per fare un esempio lungi dall'essere un superfluo esercizio romantico sono proprio le preghiere è quello che faceva Gesù insieme a tantissime altre cose e l'ipo anzi il volume 18 inizia proprio così dare gloria al Padre per ogni cosa creata entra nel primo dovere della creatura agosto del 1925 quindi è importante sapere questo ecco, però questo si può fare solo e soltanto in quanto la creatura è fusa con l'operato di Gesù altrimenti diventa un pio esercizio e una bella intenzione però non è la stessa preghiera nella divina volontà che Gesù è che Gesù rivolgeva al Padre e al bene di tutte le creature e quindi il fondersi nell'umanità di Gesù è sempre così come per vivere nella divina volontà l'incarnazione del verbo è l'atto primario necessario ed essenziale il fondersi nell'umanità di Gesù per noi è un atto primario essenziale e necessario per poter seguire tutti gli atti della divina volontà quindi ecco volevo arrivare a questo quindi noi entriamo nell'atto continuato con Gesù eh entriamo nell'atto unico soltanto che noi certo continuato è unico e quindi non è un inizio che si può fermare è diciamo l'atto iniziale per esempio nel volume 28 c'è un passo in cui lui si dice io mi trovo sempre a girare nella divina volontà ma non posso fare a meno addirittura prima di entrare nella creazione di entrare in quell'atto in cui Gesù è presente nel seno santissimo e purissimo di Maria viene fuori alla luce in quest'atto dell'incarnazione allora Gesù dice vedi ma perché non posso fare meno di fare sta cosa dice lei allora Gesù dice io prima ti faccio fare i fatti e poi ti spiego la ragione in realtà siccome l'incarnazione del verbo è proprio l'atto necessario per noi non soltanto per essere redenti ma per essere perché siamo fatti a sua immagine e somiglianza l'incarnazione del verbo possiamo dire che è l'atto primo della divina volontà ad extra allora tutti gli atti ad intra sono quegli atti che la Santissima Trinità fa nel seno della Santissima Trinità ad intra la generazione del verbo il procedere dello Spirito Santo allora ogni persona divina è perfetta immagine dell'altra e si adorano e si adorano a vicenda e ognuno trova nell'altro la perfetta immagine quindi c'è il modello della vera adorazione come leggiamo nel volume 16 però questa Santissima Trinità dov'è che trova il modello di se stessa come Trinità come tre devono per forza uscire di fuori di loro per questo non è bene che l'uomo sia solo diamogli una compagna non è altro che l'eco della Santissima Trinità posto nel volume 12 che dice non è bene per noi stare soli dobbiamo fare dobbiamo uscire fuori di noi allora la creazione non è un optional il nostro Dio è un Dio trinitario e in quanto Trinitario è un Dio che crea per questo noi siamo eterni nella sua mente perché in certo senso siamo necessari dal suo amore nella sua mente non è che lui l'ha fatto perché ne avesse bisogno per aumentare la sua gloria ma per eccesso del suo amore per la natura del suo amore è un Dio che deve creare allora quando inizi a creare qual è l'atto primo della creazione qual è l'atto primo diciamo qual è il primo atto ad extra bravissimo l'incarnazione del verbo non è la creazione dello spazio del tempo delle nebulose o delle sfere no l'atto primo necessario è l'atto che in cui ad intra il divino e l'umano si connettono ad intra e ad extra si connettono l'umano e il divino l'increato e l'increato si connettono l'atto primo necessario per questa congiunzione perché la Santissima Trinità esca fuori è questo creato ecco è l'umanità di Cristo ed è la condizione necessaria affinché tutto il creato possa essere divinizzato perché se prima non si umana un Dio come fa il creato ad essere divinizzato come fa ad essere assorbito nella divinità se non ha come modello un uomo Dio e allora Gesù dice a Luisa io ti faccio entrare in quest'atto dell'incarnazione perché è l'atto primo è l'atto primo senza del quale non c'è vita della divina volontà nella creatura addirittura quindi lungi dal pensare che possiamo fare a meno di fondereci in un'umanità di Gesù è la condizione è l'inizio inteso come forse meglio detto principio ma come principio eterno al principio era il verbo il verbo con Dio era il verbo era Dio il verbo si è fatto a terra e ha regnato mezzo anno adesso non so esattamente è il principio inteso come atto necessario e come condizione necessaria primaria è implicito quando noi diciamo mi fondo mio vero divino per abbracciare tutte le cose create e dare la stessa gloria a Dio all'amore a queste cose create è implicito che ti fondi anche il nome di Gesù perché trovi anche tutto ciò che ha fatto Gesù nel creato e non è necessario che io prima mi fondo parte e parte con Gesù e poi dico adesso vengo anche nella tua volontà e dare gloria al Padre queste cose diciamo che noi non potremo mai abbastanza fonderci parte e parte con l'umanità di Gesù nel senso che non potremo mai darlo troppo per scontato e lo stesso pure quello che faceva diciamo Luisa ovviamente si vede come nel progredire dei volumi proprio nella pedagogia proprio iniziale nel volume 11 d'oggi era tutto un fondersi nell'umanità di Gesù e da lì può entrare nel mare della passione per esempio addirittura il mare della passione era tanto immenso perché una passione inflitta dalla divinità l'umanità di Gesù che Luisa dice mi trovai nel mare della passione in cui Gesù era l'agnellino che subiva le morti date dal Padre se io non l'avessi trovato mi sarei persa anche l'umanità di Gesù mi sembrava piccola piccola all'interno di questo mare di luce della divinità allora quindi se abbiamo la sfera infinita senza confini della divina volontà questa sfera infinita l'umanità di Gesù è il centro di questa sfera per darci un ordine di grandezza quindi anche l'umanità di Gesù è infinitesimale come il centro di una sfera a circonferenza infinita rispetto alla divina volontà ma è comunque il centro come nelle previere che leggiamo che tu hai preso benissimo dal volume 17 dice il centro della divina volontà è l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro lo leggiamo c'è l'umanità di Gesù il centro della divina volontà è l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro è una cosa talmente bellissima e l'abbiamo letto l'umanità di Gesù ha per centro di vita la divina volontà quindi la divina volontà è il centro è il centro dell'umanità di Gesù ma l'umanità di Gesù è anche il centro della divina volontà troviamo anche quello nei volumi perché come lo vediamo per esempio e la differenza lo si vede in questo modo all'inizio Luisa viaggiava sempre fosa nell'umanità di Gesù allora lo vedeva era a contatto con lui si fondeva allora si fondeva l'umanità di Gesù allora però Gesù per poter aiutare Luisa e darle la spinta a girare in tutti gli atti anche della creazione della santificazione tutti gli atti che lui nella sua umanità aveva comunque partecipato insieme al padre e allo spirito santo che cosa doveva fare dal volume 18 in poi 19 in poi troviamo spesso questo termine in cui diceva Gesù si eclissa mi sento eclissata nella divina volontà allora è come se Gesù desse una piccola spinta a Luisa dice muoviti un attimino discosta un attimino da questo centro a un certo punto anche se mettiamo facciamo conto che c'è talmente una luce così brillante che anche se siamo a un metro non ti vedo più allora se sono proprio dentro di te comunque continua a essere dentro di Gesù però quando si sposta vedo un metro già vedo tutta luce dice dove è dove si è eclissato la privazione non lo vede più non lo trova più dov'è ma questo dice Gesù è necessario perché altrimenti tu non gireresti mai negli atti della mia divina volontà e saresti sempre a bearti nella mia umanità allora in questo senso è l'inizio nel senso che è un inizio necessario dal quale non si può prescindere ma deve essere un inizio continuato che diventa il trampolino di lancio per l'anima a continuare a fare altri atti nella divina volontà non soltanto quelli della redenzione è impossibile è matematicamente è assolutamente impossibile non si fonde in Gesù fa gira no non è che non si fonde ecco questo è già fuori è già fuori è già fuori ecco questo allora Gesù non è che allora noi abbiamo settemila esempi nel volum della preghiera iniziale di Luisa dell'atto non piace neanche preghiera dell'atto iniziale di Luisa di fondersi nell'umanità di Gesù allora Gesù dice la mia volontà è una storia infinita Gesù avrebbe potuto continuare a darci 700.000 volumi però a un certo punto anche dalla progressione logica dei volumi possiamo vedere lui dove vuole arrivare allora siccome poi ci sono tante altre cose su Maria Santissima fino al volume 15 si parla di immacolato concepimento qualche cenno lì per lì ma altrimenti non si è poi le ultime parole del volume 36 sono proprio dedicate a Maria Santissima saremo il suo onore e la sua gloria di Adamo non se ne parla eppure nel volume 16 dice tu devi camminare e arrivare al principio qual è questo principio? l'origine dell'uomo ma di Adamo se ne parla un pochettino al 18 soltanto al 28 esplode Adamo allora secondo me dico domanda ipotetica se io mi fondo e nell'umanità di Gesù anche se non lo faccio coscientemente posso essere distaccata dagli atti di Adamo innocente e anche dagli atti è impossibile impossibile allora nel momento in cui la creatura si trova nella divina volontà non può essere esclusa da tutto ciò che la divina volontà fa perché la divina volontà è un atto unico siamo noi che percepiamo atti distinti questo atto unico è il tempo allora questo atto unico è il centro è l'umanità di Cristo noi sappiamo che la nostra la nostra porta il mezzo il rimedio il vincolo il modo per entrare nella divina volontà è l'umanità di Gesù allora che vuol dire che non ho bisogno di fondermi parte per parte sono pazza se rinuncio a quest'altro di fondermi parte per parte nell'umanità di Gesù voglio continuare a farlo voglio continuare a farlo continuamente ma questo proprio questo continuare a farlo continuamente l'anima diventa per l'anima un trampolino per cui Gesù la spinge poi come un trampolino a volare negli altri atti della divina volontà e questo lo si vede proprio negli scritti di Luisa ma questo è importante Marina scusa anche perché fondendoci nella maniera di Gesù Gesù non solo ha rifatto gli atti ma anche riparato i nostri ricardi attraverso il corpo degli atti e quindi noi fondendosi negli sguardi nella parola come ci insegna la passione praticamente noi ripariamo insieme a Gesù anche tutti i più peccati che ogni creatura ha fatto quindi è importante i tre atti principali che fa l'umanità di Gesù prima di tutto è la gloria al padre prima di tutto dare gloria al padre la corrispondenza al padre secondo riparare per le creature terzo impetrare quello che lui è quello che lui ha ricevuto per tutti quindi non soltanto la riparazione cioè prima se vogliamo ridurre a tre ridurre a tre gli atti fondamentali l'atto trinitario uno e trino dell'umanità di Gesù in ogni istante della sua vita da cui l'anima che viene alla divina volontà non si può esimere per necessità anche se sta riparando sta dando gloria al padre anche se sta impetrando sta riparando è impossibile allora noi abbiamo una piccola un'intelligenza piccolina piccolina siamo soggetti alle nostre piccole sinapsi e allora in questo senso se facciamo una cosa non abbiamo la coscienza dell'altra ma nella divina volontà quello che la nostra memoria nel tempo e nello spazio non può raggiungere è più che compensato dalla onniveggenza della divina volontà perché tutto è insieme tutto si sta compiendo questo è come il palpido respiro e la memoria scusa Marina gloria riparazione impetrazione per le anime c'è del regno con la luce con la grazia con la santità prima l'asta verticale poi quella orizzontale io ricordo una cosa che Luisa quando faceva il giro se ricordo bene quando faceva il giro nella creazione dici non ho bisogno cioè mi era facile poi è arrivato a un certo punto quando volevo fare i giri nella retenzione Gesù ha detto devi fondere in me perché i miei atti sono di sostegno ecco perché sono rimasta un po' io non lo trovo questo nel volume adesso non so a tu che passo io mi sembra di averlo letto anzi no mi sembra non lo trovo perché anzi Luisa prima ha iniziato a fare i giri nella retenzione e poi Gesù nel volume 19 18 e poi esplode la creazione troviamo i prodromi del giro nella creazione del primo passo che parla della creazione è il 20 febbraio del 19 del volume 12 prima di quello c'è un accenno ma quello nel volume 2 quando parla sì sì ma di nulla proprio proprio per stare a significare che nonostante la creazione sia diciamo il primo fiat la redenzione sia il secondo fiat la santificazione e il terzo e siccome è Gesù l'atto necessario che unisce l'umano e il divino allora comunque inizia con l'umanità di Gesù allora anche se le cose sembrano capovolte Gesù prima gli parla della redenzione di fondersi in sé e di questo riparare per tutte le creature quindi Luisa diventa prende dimestichezza odierna minuto per minuto nanosecondo per nanosecondo a fare gli atti di riparazione atti diciamo giri nella redenzione quando questo per lei diventa la natura allora Gesù comincia a ecclissarsi un pochettino dice adesso ti voglio dare una spinta dice guarda entra nella mia volontà vedi vedi che ci sono questi atti della creazione ma io non so che fa la tua volontà nella creazione metti il tuo diamo vedrai che ti si rivela perché questo è quello che faceva anche la mia umanità allora non solo quello ma poi è cominciato dal volume 19 in poi a fare anche i giri nei mari di Maria Santissima perché sono anche questi atti della divina volontà presenti nel divino volere anche quindi la divina volontà vuole la creatura che vive in essa a farle compagnia in tutti gli atti allora questi sono gli atti della redenzione poi gli atti della creazione gli atti di Maria Santissima e gli atti della santificazione dello Spirito Santo gli atti di Adamo innocente gli atti qui stiamo parlando di quelli che faceva Luisa ovviamente adesso Luisa per noi possiamo dire che Luisa è il secondo anello di congiunzione per cui Luisa pone il suo atto primo per ogni atto che noi facciamo Luisa ci mette il suo suggerimento così come c'è quello di Maria e di Gesù quindi Gesù nel quattordicesimo volume dalla scritta dice vai vai sbrigati sbrigati perché devi mettere il tuo suggello vogliamo gli atti triplici gli atti triplici così come questi atti sono stati fatti da Gesù e da Maria ci vuole il terzo timbro l'atto uno e trino di Luisa adesso che questi atti uno e trino unici e trinitari sono stati fatti allora ciascuno di noi può fare unendosi così come Maria e Gesù sono unico anello di congiunzione noi diventiamo unico anello con Luisa allora questo voleva dire il brano dove lei cercava gli atti delle creature per mettere un chiamo a Gesù dice Gesù non li trovo lui se vuoi trovare lì se il corpo del libero abito li trova entra nella mia umanità li trova nella mia umanità gli atti allora lui cercava gli atti delle creature non della creazione non delle cose create gli atti delle creature beh è girato per il creato poi quando cercava gli atti trovava sì lì si è eterno c'è la divina volontà li trovi ma gli atti delle creature non li poteva trovare sono nell'umanità di Gesù ma per carità ma allora questo è il brano che tu vuole dire io mi ricordo bene ecco allora se questo è il brano allora diciamolo per riflessione comune proprio ad andare a confermare ancora di più quello che stava dicendo Carla all'inizio è la necessità del fondersi nell'umanità di Gesù dice io voglio trovare gli atti delle creature dove li trova entra nel mio volere perché lì troverai tutti gli atti di Gesù che ha fatto per ciascuna creatura e lì ti puoi unire alle riparazioni più quelle di Maria Santissima ovviamente allora il punto è che possiamo andare avanti avanti e dietro perché una persona può dire una sola parola allo stesso momento ovviamente se dice Gesù ovviamente anche Maria se dice il pari ovviamente per lo scritto sa e funziona sempre così io sono stata a conferenze su conferenze dove una persona aveva ha passato due giorni fantastici sul fondersi nell'umanità di Gesù che stavano tutti a bocca aperta il terzo giorno ha parlato ha iniziato a parlare della creazione ma Gesù dove non è che possiamo parlare di 70.000 cose allo stesso tempo allora l'importante è avere le cose in prospettiva e anche a farsi aiutare da come si svolgono i volumi se uno ha un'idea e dice quali sono le cose di cui Gesù inizia a parlare per vedere qual è la cosa essenziale non necessariamente a livello cronologico ma a livello proprio di necessità di atto primo da cui dipendono gli altri a livello logico non cronologico se vuoi fare una domanda alla mia allora noi quando ci fondiamo nel volere divino non più in Gesù è Gesù stesso che ci spinge a girare nel creato è implicito che siamo anche nell'umanità di Gesù non può essere altrimenti capito anche se non dico mi fondo per te ma è implicito perché è Gesù stesso che ci sta spingendo a girare nel creato e a dare le gloria ecco però allo stesso tempo se io voglio fare se una creatura vuol fare un giro nella creazione come fa a iniziare questo giro nella creazione se prima non si fonde nella divina volontà e come si fonde nella divina volontà se non si fonde nell'umanità di Gesù come? ecco questo vorrei gli erosi adesso e anche l'abbiamo detto appunto è l'atto primo primario necessario fondersi nell'umanità di Gesù non è Gesù poi alla fine voglio dire una cosa la parola ma è sempre quello perché la tua umanità ha per centro lì da lì la cosa che interessava Gesù cioè ciò che interessava l'essenza di Gesù era la divina volontà non è che l'umanità di Gesù ha per centro la divina volontà cioè l'essenza di Gesù era l'interesse dell'essenza di Gesù era la volontà la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro cioè qui in altri posti dice di essa per essa ma per centro di vita significa l'essenza di Gesù sì ma qual è qual è il problema? no perché prima dicevamo centro di vita chi vive in questo centro praticamente cioè il significato proprio del centro di vita che cosa significa? infatti significa che il centro di vita di Gesù dell'umanità di Gesù lui non faceva niente se non lo vedeva dal padre quindi la volontà del padre quindi il centro di vita di Gesù il centro dell'umanità di Gesù è la volontà di Dio e chi vive in questa volontà vive in questo centro quindi vivere nella volontà di Dio e vivere discostati dall'umanità di Gesù è impossibile oh certo certo impossibile impossibile proprio per questo qualsiasi forma prendiamo nel pregare sempre quello è questo è il bello questo è il bello questo è il bello quando Gesù quando questo è il bello allora la cosa forse la lezione che viene per noi è che noi possiamo essere diciamo legati una volta che abbiamo capito la sostanza allora Gesù ci dà una libertà infinita nel girare nel pregare una volta che abbiamo capito la sostanza è ciò che è primario qual è la cosa prima per passare alla seconda a livello di necessità allora non siamo legati alle formule ovviamente noi ci possiamo aiutare le anime nella divina volontà ce ne sono di miliardi di tipi diversi ci sono sbampite la divina volontà come me ci sono le altre nella divina allora Gesù ne fa di tutti i colori per completamento della sua gloria e ciascun'anima include e fa ciò che fanno tutte le altre perché non può essere discostata da ogni atto che fa la divina volontà però non per niente questa anima rinuncia alla propria individualità così come pure le tre divine persone sebbene ogni persona divina fa e concorre a tutto ciò che fanno le altre comunque ha la sua individualità questo è quello che vuole Gesù non vuole creare il reggimento squadrone uniforme della divina volontà in cui tutti preghiamo allo stesso modo no non necessariamente ma lo possiamo fare se è quello che il nostro se siamo diciamo portati in questo modo allora anche iniziare la propria preghiera oppure metterci oppure impiegare non so 70 minuti verso 40 minuti a effondersi nell'umanità di Gesù non mi ha nessuna differenza quello che conta è l'atto interiore quello che conta è con me capiamo allora ci sono magari delle anime a me piacciono delle preghiere scritte dette insieme quando però mi trovo a dirle da sola la mia mente gira allora preferisco andare a fare la sbampita della divina volontà però quando siamo in gruppo è una cosa bellissima il fatto di diciamo mostrare anche questa armonia quest'ordine non soltanto più bella ma necessaria assolutamente allora basta l'intenzione certo basta l'intenzione poi nei giri nella divina volontà dice Gesù ma dove vuoi iniziare inizia dove vuoi iniziare inizia l'importante vuoi stare ai piani inferiori vuoi andare al primo piano vuoi stare sulla terrazza vuoi uscire sul balcone ecco così l'importante è che sappiamo la logica nel senso che senza dell'umanità di Gesù non soltanto noi non siamo redenti non siamo non possiamo vivere nella divina volontà e allora sebbene noi possiamo dire Gesù mi fondo nella tua divina volontà e questa divina volontà per definizione se questo è il nostro atto non ce lo nega non ce lo nega questa fusione però per nostra convinzione per nostra crescita per nostra unione per diciamo per disporci veramente a unirci nella divina volontà allora vogliamo parte per parte unirci all'umanità di Gesù e Gesù ce lo insegna proprio per farcelo fare in modo per cui noi lo impariamo e lo facciamo in modo potente perché altrimenti se Gesù dicesse tu sei fusa nella mia umanità basta che lo vuoi no Gesù dice no fonditi questo è quello che insegna Luisa fonditi parte per parte un atto così bello un atto così potente allora Luisa lo faceva all'inizio continuava a farlo adesso traspare molto nei volumi dall'undici alle sette da sette già non c'è più questo parte di parte è così stavo prendendo le volerigilino è un'unica è un'unica è diventata una cosa naturale anche perché il primo siccome Gesù deve andare a dare nuove verità non è che allora deve dare sempre nuove verità allora Gesù dà nuove verità nel momento in cui le precedenti verità sono diventate natura di Luisa infatti certe volte non posso andare avanti se tu non rifai questo atto non lo rimetti in pratica non gli dai il suggello della tua dell'incorporazione di questo atto in te stessa allora una volta che è successo questo il passo magari dei volume 21 28 29 dice continuando oppure il mio giro ero immersa nel divin volero come faceva ad essere immersa se non era unita all'umanità di Cristo magari però soffriva la pena dell'abrivazione e perché? proprio perché Gesù si efflissava proprio perché si efflissava la pena dell'abrivazione diventa più grande man mano che si va avanti proprio perché Gesù l'umanità di Gesù si efflissa sempre di più si efflissa sempre di più perché vuole che Luisa come una rotellina incessante vada in giro per trovare Gesù e dove lo trova Gesù? attraverso le sue opere allora dice se io mi faccio vedere tu poi non vai a visitare le mie opere invece io voglio che vai a rendermi la corrispondenza d'amore nelle mie opere allora mi nascondo così tu entri nelle stanze che sono le mie opere e dici dove è il re? dove è Gesù? il sole chiama vieni allora vieni dove sta Gesù? allora costringe il sole la luna ogni cosa creata ogni creatura a gridare datemi Gesù portatemelo allora Gesù a un certo punto si deve disvelare questo è tutto un gioco divino che proprio è l'amore l'amore divino l'amore divino ecco e allora vedendo in questo modo possiamo soltanto adorare i modi e la sapienza divina di come svolge questi insegnamenti che questi scritti sono una miscellanea ma io non credo che neanche il teologo più erudito possa proprio diciamo catturare il nocciolo della sapienza infinita in questi scritti di come si vanno svolgendo perché si parla dell'attenzione o il passo dopo si parla della pazienza il passo dopo si parla dei castigli il passo dopo si parla della passione di Gesù e il passo dopo si parla dell'immacolato concepimento per poi ritornare all'attenzione perché è un argomento dopo l'altro e Luisa continua a macinarli continua a farli e Gesù vede che adesso ci vuole un po' di questo adesso ci vuole un po' di quest'altro così come per costruire un palazzo prima le fondamenta poi ci vuole il travertino poi ci vuole il mattoncino di questo tipo adesso ci mettiamo un po' di calce adesso bisogna fare le colonne i capitelli eccetera allora tutti questi materiali anche se sembrano una miscellania diversi servono per costruire questo palazzo reale tant'è vero che nel volume 25 Gesù dice proprio che adesso il palazzo è costruito adesso servono solo gli ornamenti anzi addirittura nel volume 20 dice fin qui diciamo io ti ho dato già le verità fondamentali per vivere nella divina volontà diciamo comincia a mettere le decorazioni gli abbellimenti e poi dal 25 in poi che sono dei volumi che sono di per sé forse i più lunghi i più potenti che sono quelli il cesellare mettere le ultime decorazioni invece nel volume 11 lui sta spalando sta facendo le fondamenta così pure nel 12 proprio se ci se vediamo anche l'arco di tempo tra l'altro voglio dire è soltanto un puro caso voglio dire che il volume 12 copre l'arco di 6 il volume 11 copre 7 anni il volume 21 copre 4 mesi adesso sto non lo so a memoria però per darci un'idea quello che noi dovremmo vedere in realtà ce l'ho ah questo è bellissimo quello che noi dovremmo vedere è la frequenza di parole per giorno non tanto dice quante parole al giorno scriveva in media ne ha scritte mi pare 90 al giorno con picchi di 220 nel volume 20 perché per esempio perché il volume 20 è un volume che è un volume bellissimo potente potentissimo lui Gesù inizia a uscire con una nuova serie di insegnamenti proprio a valanga sulla creazione che era un incubazione in incubazione prima allora un po' quello un po' il padre Nibale che stava morendo e che diceva a Luisa scrivi 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 quello è il 1927 il volume 20 allora se noi vediamo che nel corso di 40 anni in cui Luisa ha scritto lei ha scritto in media 90 parole al giorno nel volume 20 ha scritto 225 parole al giorno il volume 11 che ci sembra così scritto in realtà ha scritto pochissime parole al giorno perché scriveva una volta in marzo una volta in agosto poi una volta scriveva il gennaio dell'anno dopo e così si segnavano 74 pagine del volume 11 copre 7 anni invece nel volume 20 21 22 l'intensità di parola è di gran lunga superiore questo possiamo vedere proprio un grafico che va in questo modo funziona proprio così nei primi volumi come per dire poche parole al giorno nel senso che deve mettere il suggerito sulle virtù cristiane come per dire lui aveva già parlato di queste cose però le deve parlare in chiave della sua umanità quasi queste virtù viventi che sono gli attributi viventi dell'umanità di Cristo allora non è certo la storia dice dice come mai tu quando parli delle altre cose non senti così gli entusiasti invece quando parli della mia volontà della tua volontà non riesci a stare fermo proprio cioè perché quando io parlo di alcuni dei miei attributi delle mie virtù parlo di una parte di me stesso parlo della mia volontà parlo di tutto me stesso tu mi prendi tutto ad un colpo allora prendi l'infinità allora se se ci immaginiamo ecco io adesso però mi fermo se tu dici che questa è troppa teoria secondo me è importante anche questo per vedere per esempio i primi volumi fino all'undici immaginiamo qui l'arco del tempo qui è l'arco del tempo qui inizia da scrivere il 1899 e questo è il 1937 va bene allora lei inizia a scrivere qui ci sono le parole per giorno allora parole per giorno questo è una lega e inizia così questi sono i primi dieci volumi pianino pianino inizia a crescere poi a un certo punto quando inizia a parlare della divina volontà c'è un come si dice c'è un flesso cambia proprio allora inizia a parlare a incrementare in moltissimo le parole per giorno perché proprio cambia l'argomento un picco un picco fino a che arriva nel volume 20 21 è quello il picco di parole per giorno e poi dovendo mettere il cesello allora dal 20 al 36 fa una piccola curva fino a che ecco trova il riposo assoluto allora anche vedere in questo senso come si svolge l'insegnamento di Gesù possiamo vedere proprio che lui nei primi dieci volumi ecco prepara completa la conoscenza della sua umanità al di fuori quando inizia a entrare nella sua divina volontà piglia il volo poi allora piano piano siccome sono insegnamenti nuovi allora piano piano comincia quando invece comincia poi a parlare di altre cose nuove di altri argomenti come la creazione come Ia di Adamo a dei nuovi picchi e poi ecco come dire si riposa nella sua opera fino al volume 36 e raggiunge il sui platò diciamo in questo senso Marina questo mi fa pensare alla natura l'inverno per le stagioni l'inverno con tutti i volumi è bellissimo quello che dici l'interiore e poi dopo esplode la primavera in tutta la sua grandezza è stupendo quello che dici proprio infatti ci possiamo trovare proprio le stagioni infatti in questa progressione dei volumi in realtà noi ci troviamo il creato ci troviamo la sapienza divina che è la stessa sapienza che opera nel creato con l'armonia con l'avvicendamento delle fasi naturali della vita lo stesso pure nell'opera di vita divina senza termine infinita delle verità del vivere nel vivere questo ci fa capire quanto siamo legati tutti con il creato le creatività con il cielo allora lungi da noi pensare che il giro nella creazione è una forma di esercizio così no no è quello quando noi quando noi quando io quando noi ci innamoreremo di girare sempre costantemente nella creazione allora veramente è il segno che la divina volontà ci spinge a girare in tutti quanti i suoi atti e non soltanto restare affonderci nell'umanità di Gesù per tutte le creature ma continuare a fare entrare anche nelle opere entrare in tutte quante le altre opere le opere di Gesù il sapore il colore così i miei fiori è quello che diceva suor Franceschino così tutte queste cose in ogni cosa creata in ogni atto ogni atto è uno e trino per questo ogni atto è una divina volontà Luisa doveva Gesù diceva affrettati sbrigati 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 metteci il tuo atto perché doveva metterci il suggello dell'atto trino l'atto fatto da Gesù da Maria Santissima e da Luisa che è l'immagine della Trinità in terra maggio del 25 del volume 16 senti quando io fumo una sigaretta mi stacco dalla divina volontà no appunto no allora noi sappiamo che siamo deboli no tu stai nella divina volontà anche quando ti fumi la sigaretta tra l'altro dico un aneddoto questa la persona che diede per esempio queste conferenze di cui accennavo prima questo signore messicano che conosco gli iscritti Luisa dal 1970 ebbene in California c'è questo ritiro tra l'altro in California sono tutti dicendo ma fuma in Italia già si vede di più però in California magari c'è anche se poi si fuma lì nascosto però se ti fai vedere sembra che io non fumo ma non c'entra ho fumato quando avevo 14 anni adesso ho smesso però questo se Luisa Cugna fumava allora tutti quanti diciamo non vedi così bravo così ispirato come fa a stare nella divina volontà e fumare così e lui non aveva nessuna vergogna perché non è che si vantava di questa cosa però diceva ognuno ha la propria spina nel fianco ognuno ha la propria spina come ce l'aveva San Paolo questo non vuol dire che ecco idealmente la creatura che vive nella divina volontà non fuma non ha nessuna nessuna cosa che è diciamo contraria all'ordine della creazione che Gesù non fumava ma ma Gesù ma comunque Gesù consente e permette le nostre debolezze proprio perché non ci sentiamo arrivati ecco magari noi dico noi ci proviamo a ridurre il fumo diventa uno sprone per dire ah vedi vedi sono Gesù sono ancora sono miserabile insomma ecco siamo così però Gesù lungi dall'essere lungi dall'essere offeso non ti puoi fondere nella mia divina volontà no 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 lui dice fondite la mia divina compenso io per te e magari poi piano pianino piano pianino piano pianino si riesce a ridurre si riesce a ridurre ecco vedi così ecco perché lui non è che vuole i campioni record del mondo che dice adesso io smetto di fumare un giorno all'altro sono perfetto non ho neanche ma non lo mangio più ma è infatti così eccetera eccetera no e invece ecco e allora per cui la risposta alla tua domanda ci stai nella divina volontà pure se fume considerando che però considerando che però tu ti sforzi ti sforzi come ciascuno di noi si sforza diciamo di di averci un po' questa di dare a Gesù i nostri diventi io sono Maria che non fa bene infatti infatti se lui saugna la domanda rispondeva diceva ma com'è che tu fumi lui non è che era diciamo fiero del suo fumare però diceva diceva così non mi insupervisco perché in realtà lui perché in realtà lui era una creatura di una sapienza aveva dotato di grandissima sapienza e veniva trattato come un dio quando andava alle conferenze allora quando lo vedevano con la sigaretta cominciavano a avere il loro dubbio dice beh meno male allora ma io non avevo una volontà di Gesù doveva essere anche una volontà permissiva per il bene della creatura per non mettere la creatura sul piede di stato certo invece vedendo la umana in quel difetto allora noi se tu ogni tanto ti fai una sigaretta diciamo va vedi neanche lei è perfetta beh meno male l'incarnazione del verbo è l'atto primo della divina volontà senza del quale non può sussistere non si può vivere non si può vivere senza del quale non si può vivere nella divina volontà addirittura è l'atto primo ancora prima che Adamo venisse creato l'atto primo diciamo che Adamo innocente poteva vivere nella divina volontà soltanto perché vi era in atto l'atto dell'incarnazione del verbo e tutti gli atti di Gesù tutti gli atti di Gesù non doveva venire la gloria a Gesù se Adamo non peccava ecco un po' fuori no no questo è il classico argomento siamo un po' fuori no allora entriamo perché forse questo tutti quanti non sappiamo però ecco la cosa bella che tu dicevi secondo me possiamo semplicemente proprio sul filo del ragionamento che è proprio la facoltà che ci viene data la divina volontà adesso ci siamo fusi nell'intelligenza di Gesù che quest'atto è finito è stato l'atto iniziale che abbiamo fatto è finito no è un atto necessario altrimenti noi non avremmo dovuto fare niente oggi assolutamente e allora proprio fondendoci ecco quello si può dire che era un atto preventivo adesso facciamo un atto attuale Gesù adesso la nostra intelligenza va a toccare dei punti che ci mandano un po' il cervello in fumo e mi raccomando io voglio confermare l'atto di fondermi nella tua intelligenza e quindi questo è un atto attuale che stiamo facendo allora con l'intelligenza di Gesù Gesù non ci fa sforare la verità allora che cosa diciamo portiamo un passo avanti quello che abbiamo visto fino adesso nel senso che la incarnazione del verbo è atto primo è necessario per vivere nella divina volontà e lo era anche per Adamo non soltanto per lui ovviamente anche per Adamo non c'entra niente il fatto che Adamo nel tempo sia stato creato prima che il verbo si sia incarnato perché nella divina volontà è tutto un atto unico allora noi dobbiamo vedere in questo cerchio della divina volontà non vediamo scordiamoci del tempo il tempo è una creatura come il fiore il tempo lo possiamo allora c'è la margherita c'è il tempo sono due cose create allora scordiamoci del tempo e andiamo nella divina volontà in questo infinito contenitore e vediamo che quest'atto primo è l'incarnazione del verbo questo è l'atto primo e come per dire è l'atto primo ed è da quest'atto primo come la ruota non può reggersi senza i raggi nella circonferenza diciamo che ci sono tutti gli atti infiniti della divina volontà la creazione la redenzione gli atti di Maria Santissima però sono tutti legati e si reggono in virtù dei raggi come raggi della bicicletta allora in questa circonferenza infinita di atti della divina volontà c'è anche la creazione di Adamo e la creazione di Adamo si regge e sussiste ed è atto della divina volontà proprio perché è affissata è affiatata all'incarnazione all'incarnazione del verbo e per questo Adamo poteva fare atti divinizzati proprio perché aveva il modello degli atti del verbo incarnato quando si dice che allora il verbo parlava diciamo passeggiavano il fresco della sera nel giardino era proprio il verbo il verbo il verbo la parola che parlava ad Adamo e infatti quello che non ha potuto finire di dire ad Adamo si è dovuto interrompere e l'ha continuato con Luisa allora queste verità gli scritti al divino non sono altro che le lezioni che Adamo doveva ricevere nel fresco anche noi siamo nel fresco del paradiso terrestre lo vediamo come tale anche se stiamo nel caldo di Roma ecco paradossalmente siamo nel fresco del paradiso terrestre a ricevere la continuazione delle lezioni che Adamo non poter continuare a ricevere perché si sottrasse dalla divina volontà lui sa di se si sottrava e infatti pure io e allora che succede che Adamo lui che conoscenza aveva del verbo lui aveva conoscenza di tutti gli atti gloriosi del verbo diciamo che Adamo aveva conoscenza che tipo di conoscenza di scienza infusa aveva Adamo Adamo aveva la scienza infusa di tutte le conoscenze naturali di tutte le scienze le proprietà delle erbe lui sapeva benissimo conosceva le costellazioni non aveva bisogno di fare lo shuttle per andare sulla luna lui la luna la possedeva la conosceva la sua possedeva e conosceva tutto 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 se vogliamo dire la fisica tutto tutto per lui era naturale conoscere dal più piccolo atomo perché vedeva la volontà di Dio operante in ogni cosa e riceveva da questa cosa un canale di grazia di amore di conoscenza questo dal punto di vista naturale la sua conoscenza era completa quello che gli mancava era la conoscenza esperienziale cioè lui nel corso della sua vita nella palestra della divina volontà sapeva benissimo che la mella era deliziosa però Gesù il Dio il Padre glielo voleva far provare quanto era deliziosa sapeva benissimo che l'acqua era fresca e sapeva benissimo che il rosmarino aveva un aroma particolare anche delle virtù che servivano ad invigorire il suo corpo eccetera lo sapeva benissimo però il Padre glielo voleva far sperimentare e allora lui aveva per essere glorificato certo per farsi trovare per ricevere la corrispondenza d'amore attraverso le cose create tante cose diverse una dall'altro per sperimentarle perché come leggiamo per esempio nel volume 18 l'amore di Dio corre in ogni cosa creata però dov'è che quest'atto è compiuto dov'è che si mette la ciliegina sulla torta quando la creatura se lo prende allora fino a che lo dai e c'è questa cascata alla fine resta così ma quando è che l'atto della cosa creata è compiuto quando la creatura lo prende lo utilizza secondo lo scopo per cui è stato creato quello è il compimento dell'atto allora la conoscenza delle scienze di tutte le conoscenze naturali era completa in lui gli mancava la conoscenza esperienzale e questa l'avrebbe dovuto fare nel corso dello spazio e del tempo con i suoi atti naturali la conoscenza delle cose soprannaturali però non era completa Dio gli avrebbe dovuto continuare a rivelare in se stesso la storia infinita della divina volontà continuamente per tutti gli anni della sua vita per poi continuare a rivelargliela diciamo all'eternità allora a un certo punto lui si è fermato allora tra le conoscenze che aveva Adamo lui aveva la conoscenza degli atti gloriosi del verbo incarnato lui sapeva che c'era un verbo un verbo un uomo un uomo Dio infatti da lui che copiava gli atti però di questi atti di Gesù lui conosceva gli atti della glorificazione del padre non gli atti della redenzione perché ancora non era perché non sarebbe la conoscenza certo se avesse avuto questa conoscenza o avrebbe toccato lo stesso sarebbe stato ancora più colpevole oppure comunque non sarebbe stato libero avrebbe saputo il suo futuro e questo non è non è niente perché già conosceva la sua volontà come? quando Dio gli ha dato l'intelletto la memoria e la volontà sì prima che fecchasse lui la sua volontà era nella volontà divina non lo conosceva lui sapeva di questa volontà che poteva fare no sì ma infatti vive nella divina volontà infatti nel volume 18 19 si parla di non sai i voli i voli che faceva nella divina volontà il primo padre Adamo nella luce emessa della divina volontà dicendo un'altra cosa no gli diceva un'altra cosa perché lui era già sapeva già D'Amo che avrebbe peccato volevi intendere lui la facoltà di avere lui la conosceva la sua volontà perché la Madonna nel suo concepimento subito sapeva di avere una volontà umana una volontà umana e quindi subito ha messo questa sua volontà nelle mani del padre per fare solamente la volontà divina invece Adamo era stato creato già fuso già fuso aveva coscienza di avere una volontà umana ma c'era la coscienza di avere questa volontà umana io penso di sì però per lui il problema non si pone perché è già un'autorifiezione il perfetto vivere nella divina volontà infatti Maria Santissima disse prima ancora di esercitare un atto con la mia divina volontà la misa chiede l'alentrano non la vuole neanche conoscere per cui se Adamo avesse fatto ho una volontà immediatamente sarebbe uscito dalla divina volontà per questo Gesù con noi compensa tanto ma ci rendiamo conto che ogni pensiero che rivolgiamo a noi stessi in realtà fare veramente una scappatina dalla divina volontà allora Adamo sapeva ovviamente di essere creato libero però non si poneva il problema il suo pensiero le sue facoltà non erano esattamente non erano mai rivolte infatti il peccato venne consumato non quando lui era il taglio del morso la mela ma quando Eva lo chiamò e lui disse sì allora spostò gli occhi da Dio ad Eva e lì che si consumò il peccato e lì che lui esercitò la sua volontà perché il libro voleva conoscere il mare ecco allora questo è bellissimo questa riflessione a cui ci ha portato Maria Pia e quindi il nostro padre Adamo che si vuole far conoscere perché stiamo facendo queste riflessioni perché ci innamoriamo e così che ci possiamo innamorare del nostro padre Adamo che in nessuna storia di nessun mistico almeno neanche in Caterina Emmerich che è l'unica che parla dell'Antico Testamento non si non si sente Adamo parlare invece nel volume 26 26 del 26 ottobre nel 1926 e Adamo parla a Luisa cioè ci sono proprio le sue parole dice e adesso è giusto e tu prendi la colore tu hai preso il mio posto tu hai preso il mio posto allora allora quindi quando allora vediamo un po' questo tema di Adamo che inizia il volume 18 ma dice Gesù non soltanto ti devi fermare gli atti di Adamo innocente ma ti devi entrare nella divina volontà anche per riparare e per rifondere per ripetere diciamo rifare gli atti di Adamo con il suo pentimento dopo che lui peccò perché non peccò più Marina perché non parla mai di Eva questo è interessante è interessante è interessante perché il peccato originale non fu il peccato originale non è il peccato di Adamo e Eva il peccato originale il peccato di Adamo infatti quando Gesù ha detto queste parole di Eva che nel volume 15 se Adamo avesse corretto Eva dopo che lei avesse peccato avrebbe fatto il primo atto eroico e avrebbe salvato per sempre la divina volontà e per tutte le generazioni perché non avrebbe perso quindi l'avrebbe potuto addirittura ritrasmettere ad Eva lei sarebbe stata la prima redenta ma non da Gesù ma da lui ecco perché Gesù è il peccato perché a noi si è fatto il peccato il peccato ma qui non vogliamo entrare in questa cosa è una disubbidienza perché c'è il peccato di Adamo no e il peccato di Adamo non c'entra adesso con chi allora non c'entra il fatto se viene consumato da due persone o da una persona il peccato originale è il peccato di Adamo perché il peccato originale è il peccato che ha come conseguenza la perdita del dono della divina volontà allora se pecca Eva e non pecca Adamo comunque il peccato originale non viene commesso nel senso che questo dono della divina volontà possa essere trasmesso quindi il responsabile del peccato originale sebbene Eva è quella che l'ha incitato ed è stata poi punita la donna nei secoli e lo è ancora per essere stata l'istigatrice e il peccato originale è il peccato di Adamo allora non c'è nessuna necessità di parlare di Eva come non c'è nessuna necessità certo si può parlare di Eva come si parla di Isacco di Giacobbe di Isaia degli altri però la prima creatura non fu Adamo ed Eva fu Adamo Eva è stata tratta da Adamo allora la creazione della stirpe umana dell'umana diciamo dell'uomo è la creazione di Adamo non di Adamo ed Eva allora in questo senso Gesù fa un punto lo fa così chiaro che lui non parla proprio di Eva in tutti gli scritti e parla soltanto per precisare quel punto e anche se questa non è sapienza divina proprio per rispondere diciamo in modo così chiaro inconfutabile a queste domande ecco perché diciamo che tutto si basa su Adamo un attimo si basa su Adamo sul peccato originale ecco perché teorie come l'evoluzionismo sono proprio una strategia diabolica contro il regno della divina volontà perché se non c'è la creazione dell'uomo non c'è il regno della divina volontà la bestia che scimmie scusa adesso oddio speriamo me lo ricordo volevo dire questo fatto ecco che Adamo è stato creato proprio prendendo la polvere formando le ossa tutte queste cose scuse invece Eva è stata presa da un apostolo di Adamo non so come spiegarlo come chiederti questa cosa come si è sempre la stessa stile come donna come maternità di Dio all'interno di Dio non lo so non so come non so si ma perché questo è quello che anche abbiamo è bellissimo quello che stai dicendo si ricongiunge a quello che abbiamo detto altre volte che l'amore materno non è nient'altro che parte dell'amore divino soltanto che per definizione l'amore paterno essendo l'amore dominante l'amore visibile quello che sta al fronte allora per definizione l'amore materno è nascosto all'interno dell'amore paterno perché è un amore nascosto in questo senso ecco diciamo Eva è stata tratta tirata fuori da Adamo era quasi contenuta è bellissimo il patto di Adamo è il patto di Adamo esattamente il sole è la madre il sole è la madre il sole è la madre perché c'è il sole e non c'è la luna è bello sì la luna la luna è Eva il sole è Adamo sì ma vuol dire così come senza intervento di altro Dio il padre genera il figlio così come intervento senza intervento d'uomo Maria Santissima in cui è depositata la paternità divina genera il figlio allo stesso modo senza intervento di creatura ma per volontà di Dio Adamo diciamo da vita ad Eva mamma mia bellissimo ma il tempo è venuto fuori dopo che Adamo ha peccato o no mai io penso che il tempo è stata la prima cosa che Dio ha creato Davo lo voleva nel tempo nel senso eterno però l'eternità no Adamo di dove nel tempo è caputo come ha creato finché non era che è stato creato Adamo ah ho capito cioè il tempo no perché ci sono i sei giorni della creazione Adamo è stato creato al sesto giorno per cui c'era questo tempo sì quindi quindi la domanda potrebbe essere quando è stato creato il tempo il tempo è stato creato è bellissimo il tempo è stato creato quando Dio ha detto Fiat plus cioè al primo giorno della creazione certo come è stata la creazione vado fuori il tempo e in realtà il tempo non è altro che la conseguenza delle leggi naturali sì perché prima diciamo la Genesi dice tutto era Maria Franca ce la diceva che è un paradigma ma che è un paradigma ma no è un spirito che ha legge due anni sono scherzato ha parlato di cose troppo serie adesso vuole escezare no no è troppo bella questa cosa perché cioè è bello tutte queste riflessioni che lo Spirito Santo ci fa e secondo me queste cose ci fanno conoscere meglio ci fanno danno dimestichezza del tempo in cui viviamo della Divina Volontà delle cose che fa di come opera la Divina Volontà se impariamo come opera in un atto capiamo come opera in tutti gli altri modi in tutti gli altri atti qui fa sempre le stesse cose allora se impariamo qual è la logica della Divina Volontà allora impariamo proprio il modo di operare divino allora questo è il bello e vedi che già Gesù ci ha portato dalla fusione con la sua umanità ci sta portando a glorificare il Padre siamo già passati nella creazione dell'uomo siamo passati nel tempo siamo passati in Adamo siamo passati a riparare abbiamo fatto tutto senza neanche accorgerci siamo passati attraverso per cui è bello avere il coraggio di lasciarsi andare e di dopo che ci siamo fusi in Gesù dire adesso mi sono fusa con la tua intelligenza adesso fammi conoscere come opera la Divina Volontà perché io devo operare con questa Divina Volontà lui lo vuole però se io devo guidare una Porsche devo sapere esattamente più dei meccanici della Ferrari sono come io apro il cofano li faccio sono esattamente come funziona il più perito dei meccanici e questo se la Divina Volontà è questo operare così perfetto così armonioso con questi attributi con queste decine di migliaia di pistoni infiniti che sono tutte le qualità divine eccetera allora una volta che la creatura impara come funziona la sa utilizzare la sa guidare dovunque la voglia andare allora stavamo dicendo è una cosa bellissima un quadro bellissimo sì ma anche poi voglio dire che siccome Gesù usa la natura usa gli aspetti naturali per le conoscenze spirituali lo stesso pure possiamo fare noi anzi è l'unico modo per noi per poterlo fare e infatti come dire i greci i pagani della filosofia greca era quella tutta teorica così invece come dire Dio ha iniziato a parlare al suo popolo proprio parlando di pesci di terra di sabbia di rose di acqua di suono latte miele tutto metti questo in una tragedia greca e sei fischiato dall'inizio cioè voglio dire è proprio una cultura diciamo dell'uomo dell'umana volontà del paganesimo che cerca di fare la sua filosofia invece la pedagogia perfetta di Dio e lui conosce tanto le cose create conosce la natura e la utilizza per parlare di se stesso cosa che l'uomo non può fare posso dire una cosa a proposito di latte e miele quando ho cominciato le religioni a cioè con le conoscenze della prima volontà mi veniva sempre in mente questo fatto di 40 anni che il popolo è realizzato nel deserto eccetera eccetera e vabbè tutte quelle cose che sappiamo e poi quando è arrivato alla terra del latte e miele si è spaventato perché ha visto dei giganti ha visto e non hauto il coraggio di occupare questa questa terra Mosè dice di Mosè di che pare di Mosè di Mosè di Mosè e tribù di Israele a me è venuta questa no lo so questo pensiero un po' come così chi si avvicina alla divina volontà dopo aver fatto tutto questo percorso a questo popolo Dio eccetera eccetera compreso diciamo ai nostri tempi quando arriva la divina volontà magari tante persone vedono questi giganti come grandi difficoltà e non accedono a questa terra di latte e miele è bellissimo quello che stai dicendo in realtà questa è una chiave di lettura fondamentale dell'Antico Testamento in cui spesse volte si sente parlare di strage e di cose cruente come se Dio si divertisse a dire uccidi anche le donne perché Saulo fu rimosso perché lui non aveva non aveva ucciso tutte le persone non aveva aveva dato parte del bottino eccetera allora che cosa vuol dire questo che in realtà tutti questi nemici non sono altro che le nostre passioni sono il byproduct il prodotto della nostra umana volontà nel momento in cui entriamo nella terra promessa che cosa succede peccati capitali che sono le nove tribù dei ittiti ittite peritite cananite come si chiamano vabbè l'ho detto in inglese perché lo so la tigre sì sì anzi che io scusa sono sette come sette peccati capitali e i ttiti peritite sono quelli e Dio che cosa voleva li devi sconfiggere tutti li devi ammazzare tutti allora il mio nemico mi sta sentendo Dio tu sei la mia forza li hai uccisi fino all'ultimo è Dio che dice ai suoi re ai suoi comandanti ai suoi condottieri dovete ammazzare fino all'ultimo questo giorno io sarò con voi sconfiggerete però la chiesa non ci spiega perché questi nemici non ci sono la chiesa siamo anche noi è Gesù che ha parlato a Luisa è un amico maggiore è la volontà sentire e Dio è il città è un città eccetera e poi con tutti questi diretti hanno la superbia l'avarizia la lezzuria la gola la ciglia eccetera eccetera e la lotta con chi stessi e al contrario di queste diciamo a contraposizione dei sette vizi capitali ci sono le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali la fede la speranza la carità la temperanza la portezza la giustizia e la prudenza allora quindi le sette tribù dei nemici canadese sono questi sono questi qua soprattutto perché non riconoscevano il Signore ecco e perché le nostre passioni riconoscono il Signore alla base di tutto il Signore si alterava quando facevano gli idoli capito nella storia proprio questo l'idolo ecco gli idoli sono questi sette l'idolo sono le passioni l'idolo proprio questo è per idolatrare sono le dita la viola e la spirituale vanno i vari bassi è proprio così in ogni cosa anche lo stiamo scoprendo adesso ma anche nell'Antico Testamento l'Antico Testamento questa è un'altra cosa bella per esempio una volta potremmo fare un giro della Divina Volontà nell'Antico Testamento è bellissimo l'abbiamo fatto diverse volte in America con alcune anche a livello grafico così come abbiamo fatto quello con la creazione c'è uno nell'Antico Testamento perché è proprio quello allora proprio quello che Gesù vuole il girare nel continuo l'antilina volontà è la condizione necessaria sine qua non è proprio il fondersi nell'umanità di Gesù ma lui non vuole che ci fermiamo lì anzi quello deve essere il trampolino per andare in tutti questi atti allora l'Antico Testamento innanzitutto è storia è storia si può leggere in tre chiari nell'ambito puramente storico il volume 1 di Luisa è successo questo è successo questo anche il libro della Genesi dove dicevano ma com'è il simbolo Adamedeva no Adamedeva sono dei personaggi storici come dice Pio XII tra l'altro quindi il libro della Genesi è un libro di storia così come il resto del Pentateuco è chiaro ci sono poi altri libri però il Pentateuco è un libro di storia anche Gari tutta 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 è chiaro non esiste perché non esiste ancora il dogma della creazione dell'uomo proprio perché la Chiesa forse ancora non conosce e non abbraccia una volta che si conosceranno questi scritti ma che bisogno c'è di portare il dogma della creazione dell'uomo non è un dogma perché è una realtà è una realtà è un atto è un atto bravissimo ma non hanno capito nulla no adesso noi non dobbiamo fare queste considerazioni perché anche noi senza questi scritti di cui conosciamo queste concioline già non abbiamo capito nulla però il sacerdote così come ciascuno di noi nel momento in cui ha queste piccole cose e questa conoscenza tutti possiamo avere queste conoscenze proprio sono le conoscenze che si stanno facendo largo nell'ambito della Chiesa Universale ecco indipendentemente da laico o secolare oppure religioso e quindi l'Antico Testamento è una storia poi si può leggere nell'ambito redentivo per esempio la manna parla dell'Eucaristia tutte queste cose qui ovviamente la parola di Dio tutte queste cose qui il significato a livello redentivo però la stessa cosa tutto l'Antico Testamento oltre a essere storia è successo questo questo e questo oltre a essere prefigurazione della venuta del Messia che redime questo e quest'altro attraverso la storia del popolo scelto e anche parla della storia della divina volontà infatti dice tutte le figure dell'Antico Testamento non sono altro che figure della mia divina volontà la fede di Abramo eccetera eccetera e quindi anche per esempio in atti per dire quando ecco gli israeliti chiedono un re loro avevano i giudici avevano i giudici che erano dei capi militari avevano un potere militare però non erano le altre nazioni vogliono chi era il giudice era il profeta che poi nominò Saulo come primo re adesso non mi viene il problema Samuele 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 si perché vogliono un re come le altre nazioni ma fagli sapere come li tratteranno i re manderanno i mari che non è una guerra gli metteranno un sacco di tasse li sfrutteranno e dice guardate che Dio dice così voi continuate a volere questo re no noi vogliamo un re vogliamo un re perché volevano essere così volevano copiare altri stai le altre nazioni allora Dio come atto permissivo gli dà questo re però in realtà è come dire noi nella nostra umana volontà a volte vogliamo dire abbiamo bisogno delle regole per esempio spesse volte adesso con rispetto parlando anche gli ordini religiosi vengono fuori da atti permissivi della divina volontà perché abbiamo bisogno diciamo di regole ma non soltanto gli ordini religiosi anche le nostre regole nel modo nel modo ordine lo so sì perché l'umana volontà ha bisogno di mettersi dei binari però questo originariamente non era voluto da Dio è dato come atto permissivo e allora dice a voi volete un re e prendete questi re e iniziate diciamo a indossare i vostri uniformi e a sottomettere a questo e a quest'altro però diciamo questo non è necessariamente la volontà voluta è una volontà permissiva ma Dio l'ha concessa perché sapevate doveva comunque tornare utile allora se noi vediamo anche questi atti nell'Antico Testamento come per dire l'unico re deve essere Gesù nella divina volontà dice io sono l'unico re sono l'unico direttore ecco anche nella nostra passione parla del domino di noi stessi bisogna essere a noi stessi quindi dominare le nostre passioni i nostri adesso non è molto pasta grazie a Dio grazie ecco se qualcuno vuole fare una preghiera di ringraziamento conclusiva io vorrei provare questa però non so se è fatta sì o spontaneo o poi letta la stessa dentro vedi te l'ha data a Dio grazie allora pagina 59 grazie abbiamo parlato di discussione in Gesù perfetto non possiamo più concludere condendo Gesù di nuovo bravo Gesù Gesù voglio andare da tutte le creature e da ciascuna dare tutto ciò che insieme abbiamo operato voglio dare a ciascun uomo la tua vita divina e poi ricorno subito in te perché per tutti ti voglio pregare tutti vengo a scusare e per tutti vengo a riparare e ad amare per tutti io voglio saziarti d'amore o amore Dio e a nome di ogni creatura voglio Dio darti tutta la gloria e che tutte dovrebbero darti 238 la benedizione della mamma celeste 238 adonare piena di grazie al Signore con te tu sei benedetta fra la donna benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amm sovrana sovrana regina vivendo nella divina volontà ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta sopra gli afflitti e i consoli sopra il mondo intero e la trasformi del bene sulle anime murganti e smorsi loro il fuoco che le brucia la tua benedizione materna sia degno di eterna salvezza a tutte le anime nella divina volontà Maria Santissima ci benedica ci preserva da ogni male e tronucci noi tu soffia regina del divino volere prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina amén nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amén 1929 10 febbraio e del volume 25 chi vive nel voler divino gli presta il suo nulla sgombrato dove il Fiat se ne serve di spazio per esercitare la sua creazione stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire tutti gli atti che il Fiat divino ha fatto e sta continuando in essa non solo ma la mia povera mente andava rintracciando tutto ciò che il divino volere aveva fatto in Adamo e in tutte le generazioni prima e dopo la redenzione mi pareva che tutti gli atti dalla divina volontà dalla divina volontà tanto nella creazione quanto nelle creature erano più che soli cui io dovevo seguire abbracciare e farlo mio e sebbene ciò facevo il mio povero cuore non poteva fare meno di sentire la tortura della privazione del mio sommo bene Gesù e lui muovendosi nel mio interno mi ha detto giusto due parole per considerare proprio come il primo paragrafo degli scritti soprattutto dei volumi superiori cioè lui sa che introduce sempre il capitolo prendendo lo spunto da quello che stava facendo prima che arriva Gesù stavo facendo questo e quest'altro mi trovavo in questo e quest'altro stato e diciamo che qui troviamo un po' una summa un riassunto di quello che lei faceva costantemente e dello stato in cui si trovava costantemente cioè quello che lei faceva è il continuo giro negli atti della divina volontà e man mano che Gesù nel corso degli anni e dei volumi precedenti andava aggiungendo nuove verità lei come se li fagocitava e andava ad arricchire ad allungare il suo giro quindi il suo giro era molto breve nel volume 12 aveva iniziato a mettere il suo tiamo nel sole oppure diciamo compagnia a Gesù nella sua passione poi negli elementi poi il giro nella creazione si ampia poi i mari della regina mamma volume 18 si parla poi di Adamo fino a quando ecco il tema di Adamo e dei suoi atti puri nella divina volontà prima del peccato della sua caduta delle conseguenze quindi Luisa continuava a fare non solo la creazione ma continuava a fare anche quello che aveva fatto in Adamo innocente in tutte le generazioni prima e dopo la resenzione quindi ci sta pure il giro negli atti nell'antico testamento e quindi con Luisa passava in rassegna tutti i simboli tutti i personaggi tutte le piccole incarnazioni come diciamo della divina volontà in questo e quest'altro personaggio dell'antico testamento in cui la divina volontà manifestava un suo atto ora non che la divina volontà operasse come vita in quei personaggi perché questi personaggi non ne avevano la conoscenza e la divina volontà non si era ancora manifestata non si era ancora manifestata come verbo incarnato nella redenzione immaginiamoci se si era ancora se si era manifestata come operante come vita nella creatura però cioè nonostante ogni personaggio ogni atto della storia dei giudei degli israeliti è un pezzetto di storia della volontà umana che viene richiamata nella divina per questo il popolo scelto è tanto importante tanto bene gli effetti si gli effetti diciamo che il popolo degli ebrei è come se potessimo diciamo dire è a livello così di nazione lo svolgimento della storia dell'umana volontà le nostre radici si non soltanto le nostre radici ma anche il nostro futuro e allora che cosa ci dice questo che quali sono state le conseguenze del sottrarsi dell'umana volontà alla divina atroci terribili e quanto quanto non ha sofferto non sta soffrendo il popolo prescelto il popolo eletto non è altro che l'immagine dell'umana volontà ma anche l'immagine delle promesse divine della misericordia divina dell'aiuto costante di Dio della sua fedeltà dei suoi patti a cui egli mai viene meno nonostante le infedeltà della volontà umana perché quante volte abbiamo fatto questi patti queste alleanze con il popolo la prima la seconda la terza volta come pure nella nostra volontà umana ecco l'uomo tende a tradire Dio ma Dio non tradisce mai l'uomo e allora pure che faceva Luisa prima e dopo la redenzione diciamo metto il mio ti amo nella sapienza di Salomone nella santità e nel pentimento di Davide anche nel dolore di Giacobbe e nel perdono di Giuseppe nella fede di Abramo e chi più ne ha più ne metta nell'eroismo di Esther ecco tutti questi personaggi storici dell'antico testamento quando vengono chiamati in causa in un giro nella divina volontà finalmente possono esplicare e compiere lo scopo per cui loro sono stati mandati sulla terra che è proprio quello di della divina volontà che manifesta il suo operare e chiama le creature al regno della divina volontà perché finché diciamo noi li conosciamo con la lettura diciamo dell'antico testamento nella santa mesia così restano un po' appiccicatici no? allora loro stessi non possono ricevere la completa gloria loro spetta perché quanto hanno faticato gli ebrei per noi tutti sforo di fango 40 anni nel deserto e questa è la storia dell'umana volontà loro si sono sacrificati in un certo senso per noi sono stati sacrificati per noi allora Luisa lo trovava giusto e Luisa non ne poteva fare a meno ecco di girare non solo nella creazione ma proprio da un punto di vista cronologico ecco la creazione adesso sono state create tutta la macchina dell'universo il giardino terrestre è pronto gli uccelli stanno già volando i mari sono già pieni di pesci manca il fiat addirittura l'uomo viene creato il sesto giorno insieme agli animali voglio dire quindi è come per dire Dio non ha voluto aspettare neanche un altro giorno per dire è finita la natura animale è venuta la sera una nuova mattina il settimo giorno no lui dice adesso tutto è pronto come dire la festa è pronta che devo aspettare un altro giorno e allora dice creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e allora quindi di necessità il giro di Luisa si amplia si allunga e tanto che a lei non le bastano le ore e allora quindi si arricchisce questo giro e ecco questo ci può servire mi può servire come diciamo spunto come incoraggiamento per dire quanto è importante questa attività quanto è fondamentale questa attività interiore più di tutte le attività esterne ed esteriori con cui il mondo vorrebbe di star mi ci vi eccetera e allora invece ecco Luisa stava facendo il suo giro e anche non solo ma anche gli atti di Adamo e di tutte le generazioni prima e dopo della redenzione ma Luisa come lo faceva questo giro nella nella beatitudine costante oppure no vediamo un po' il mio cuore o cuore questi atti erano come dei soli che dovevo seguire abbracciare sebbene ciò facevo il mio povero cuore non poteva far meno di sentire le torture della privazione del mio sommo bene e quindi Luisa diciamo che continuava anche il suo stato di sofferenza in questo in questi suoi giri però diciamo che più soffriva più sentiva la privazione di Gesù e più veniva tirata da una calamita potente a continuare questi giri nel senso che se sollievo poteva trovare in qualche modo lo trovava proprio nel fare i suoi giri perché seguendo le opere di Dio seguendo le opere della Santissima Trinità e di Dio tramite il seguire le opere di Dio veniva a trovare anche Dio siccome Dio è inseparabile dalle sue opere la volontà come dire ha per centro Cristo Cristo è il centro della divina volontà ed è circondato da tutte le opere allora non riuscendo ad individuare in quella luce abbagliante l'umanità di Gesù e immediatamente perbearsi in essa allora lui utilizzava lo stratagemma di andarlo a chiamare ad invocare in tutte quante le sue opere e di più delle volte se non sempre ci riusciva perché Gesù a un certo punto non riusciva più a stare nascosto infatti lui muovendosi nel mio interno vuol dire non riesce più a stare fermo e lui dice mi ha detto figlia mia coraggio e lui muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia coraggio in chi vive coraggio per dire nonostante tu senta la pena della mia privazione e io me ne rendo conto coraggio continua questo giro in chi vive nella mia volontà divina e ne segue il mio fiat continua la sua creazione ed in ogni atto suo che segue esso si atteggia in atto di formare le sue creazioni ed allora il mio fiat divino è contento quando vede nell'anima che vive in esso tutti schierati ed ordinati tutti gli atti suoi come in una nuova creazione e quindi un nuovo cielo un nuovo sole un mare più bello una fioritura più sorprendente e poi siccome l'atto di creare l'uomo fu il più bello il più tenero ricordi indimenticabili addirittura parla spesse volte Gesù i miei ricordi indimenticabili unforgettable memories più tenero fatto in una foga d'amore il più intenso vuole ripetere sopra della creatura che vive nel mio volere gli atti che facemmo nell'atto di creare l'uomo e quindi dice coraggio figlia mia e in realtà proprio questa pena atroce della privazione è proprio a volte Gesù la chiama proprio il concime che feconda il regno il regno della divina volontà è proprio quella sorta di torchio che porta l'anima come una disperata a cercare Dio attraverso le sue opere e quindi a 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 o come il mio Fiat si mette in festa nel ripetere gli atti suoi perché solo in chi vive in esso può tenere il suo atto di sempre creare cose che ha fatto e cose nuove perché l'anima gli presta il suo nulla sgombrato dove il mio volere se ne serve di spazio per creare ciò che vuole quasi come se ne servì del vuoto dell'universo per stendere il cielo creare il sole mettere i limiti al mare per dar luogo alla terra di formare le sue belle fioriture ed è questa la causa perché tu giri negli atti del mio Fiat e nella tua mente passano come tante onde di luce nella quale tu segui e ti senti impressa in te come tante scene la creazione l'uomo in atto di essere creato la regina del cielo in atto di essere concepita il verbo che scende e tanti altri atti fatti dal mio volere e la potenza del mio Fiat creatore che vuol sempre fare sempre dare senza mai cessare addirittura qui stiamo al volume 25 il giro si sta proprio completando si sta proprio arricchendo e diciamo che nel giro che è la vita dell'anima che vive nella divina volontà che è questo suo essere assorbita in questi atti è un giro che si sviluppa sia in quantità che in profondità sia in quantità di atti che in qualità di atti e lo vediamo in Luisa prima era una specie di scheletretto il suo giro poi man mano che Gesù manifesta vedi le memorie indimenticabili nella creazione dell'uomo prima noi che cosa facemmo? come una sorta di distillato gli indemmo i riflessi della nostra luce gli formammo gli occhi quando il suo corpo viene fatto infondemmo le potenze dell'anima e poi i suoi primi atti i suoi voli universali e tutto questo e poi i mari della regina celeste tutti i mari di gloria di preghiera di sofferenza di amore di potenza di santità eccetera quindi qua li sta nominando tutti in ordine come dice tutti schierati e in ordine la creazione la creazione dell'uomo gli atti dell'antico testamento il concepimento immacolato di Maria è l'alba che sorge fino alla sua vita nel tempo potremmo dire fin quasi al giorno 19 del libro di Maria Santissima poi la nascita e il concepimento del verbo gli atti della vita nascosta gli atti della redenzione di Gesù e uniti a quelli di Maria Santissima la passione, la morte gli atti della glorificazione e tutto quanto e poi gli atti della santificazione e tutto questo giro come questo ordine di questa storia infinita della divina volontà sono la quantità degli atti riguardo la qualità degli atti ecco Luisa man mano che li fa trova sempre più il desiderio di entrare in questi atti e di vedere quante sorprese nuove trova in questi atti e addirittura che formano quasi il cibo per la sua per la divina volontà operante in lei e infatti il Fiat creatore è quello che vuole sempre fare sempre dare senza mai cessare adesso sono io che cesto per vedere se insomma c'è anche qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa a questa riflessione insomma così non è un monologo praticamente facendo in giro ogni singola cosa che dice mette il suo ti amo che cosa deve aggiungere sì è proprio così è proprio così allora io penso ad Abramo e metto il mio ti amo con me sì sì si mette proprio in modo pratico una come deve fare il giro ecco e lui ecco leggendo gli scritti già uno vede come si si come si sviluppa diciamo il giro però la prima cosa è proprio mettere il ti amo dicevo con Agatha prima per esempio in America abbiamo proprio fatto a volte proprio in tutta una giornata un giro intero nell'Antico Testamento per dire non soltanto quali atti si possono fare ma come in che senso in che senso la divina volontà si nasconde negli atti dell'Antico Testamento e come può essere utilizzata perché se noi pensiamo all'Antico Testamento lo possiamo leggere con tre chiavi la prima è una chiave storica voglio sapere che cosa è successo addirittura Papa Pio XII ci dice il libro della Genesi altro che il libro della Meletta è un libro di storia cioè il libro della Genesi è un libro di storia è un libro di personaggi esistiti Enoch e chi più ne ha più ne metta sono esistiti non soltanto ma anche il Pentateuico quelli che i primi libri il Deuteronome i numeri i re eccetera eccetera la sapienza e tutto quanto e quindi si può leggere da un punto di vista storico proprio la storia del popolo eletto che succede allora la caduta dell'uomo e poi la promessa della redenzione e poi ancora quelle sceller tezze che inducono Dio a portare il castigo su Sodoma e Comorra perché gli uomini e le bestie si erano confusi e poi la chiamata di vabbè prima l'arca di Noè e poi la chiamata di Abramo tra i descendenti dei Semiti e poi la terra promessa e tutto quanto questo è proprio un libro di storia che ci può far vedere proprio la storia di Dio che si punisce però ha sempre la sua nella sua mente diciamo la sposa che è l'uomo e l'umanità e la vuole salvare poi da un punto di vista della redenzione tutto nell'Antico Testamento ci parla della promessa di questo Redentore che deve venire addirittura da tutta l'umanità viene scelto un piccolo popolo così almeno si sa che da quel popolo e in particolare dalla tribù di Giuda dovrà venire questo e quindi ci sta Davide e poi ci sta Salomone e poi ci sta quello e figlio di quello e figlio di quello e figlio di quello addirittura proprio il primo libro il primo capitolo di uno dei Vangeli dice Gesù 14 generazioni 14 generazioni per dire questa è la storia e qui viene proprio il Redentore per dire dalla storia alla redenzione tutte le figure dalla manna che prefigura la Santissima Eucaristia dalle leggi che prefigurano la nuova legge che Dio vuole scrivere nel nostro cuore tutte le cose tutti gli atti dell'Antico Testamento prefigurano proprio la venuta del Cristo e la redenzione quindi questa è la seconda chiave di lettura la terza chiave di lettura che è la grande sconosciuta è proprio quella della divina volontà in cui proprio Gesù ci dice tutti i personaggi dell'Antico Testamento sono figure del regno della divina volontà ecco quando si parla del diluvio universale per esempio sì è un diluvio che è veramente successo storicamente prima chiave di lettura due seconda chiave di lettura è un diluvio meritato per i castighi terra giustizia tre terza chiave di lettura se pensiamo come si legge in uno dei volumi forse il 28 il 29 come dire Gesù alle inondazioni alle inondazioni che la divina volontà vuol fare in tutta l'umanità le inondazioni degli atti le inondazioni delle verità allora se noi pensiamo al regno della divina volontà come un diluvio un diluvio queste inondazioni di luce di verità allora quando passiamo per il diluvio universale noi diciamo vieni diluvio il diluvio del terzo fiat e quel terzo diluvio lungi dall'essere semplicemente un atto che è dovuto mietere molte vittime molta parte dell'umanità oppure un atto di giustizia implacabile divina diventa proprio una manifestazione della divina volontà che si può rimettere in atto per inondare tutte le umani generazioni con le inondazioni della divina volontà come allora questo è soltanto un piccolo esempio però ecco noi man mano quindi che conosciamo possiamo fare arricchire il nostro giro nell'antico testamento però quando noi già leggiamo sentiamo la prima lettura alla santa messa che è presa l'antico testamento se non semplicemente diciamo ecco in tutti questi personaggi dell'antico testamento diciamo io non ti conosco tanto bene però io voglio adorare la divina volontà operante in te e tu non avevi potuto ricevere la divina volontà come vita Mosè oppure Giacobbe io adesso prendo la divina volontà operante in te e la voglio costituire atto un nuovo atto di vita e con questo nuovo atto di vita questa nuova creazione ti voglio inondare pure a te e tutti i personaggi dell'antico testamento così ti troverai non soltanto gli alleati dei tutti i santi ma tutti i personaggi dell'antico testamento che faranno il tifo per te e faranno la schiera continua di tutti quanti i santi e poi anche gli angeli che vorranno aiutarci a vivere nella divina volontà e come per dire l'unità del divin volere diventa sempre più compatta e anche queste cose che sembrano distaccate che sembra che non abbiano nulla a che fare no rientrano tutto nel piano di Dio del regno della divina volontà perché lui tutto ciò che ha fatto alla fine il suo scopo principale è il regno della divina volontà anche quando ha tati i comandamenti e come no allora quando l'uomo non aveva bisogno di leggi ma quando un bambino diciamo fa un po' il monello non è che gli puoi dare le responsabilità o gli devi cominciare a dire questo non si fa questo non si fa e Dio ha dovuto fare la stessa cosa ha dovuto ricominciare a manifestare la divina volontà da zero come se noi non conoscessimo infatti non conoscevamo più niente allora per Adam era stato un black out e allora Dio che ha detto ci metteranno nei millenni a capirla fa niente riprendiamo da zero tu le dita al naso non te le metti tu questo non lo fai e poi viene ovviamente la redenzione dove c'è la parte della misericordia della carità della beatitudine e allora tutto il completamento di tutti gli atti ma a me piace pensare pure non lo so i cavalieri e i cavalli charioteers e gli egiziani che vengono trattati come dei poveri disgraziati in realtà in realtà Dio per far splendere ancora di più la sua gloria l'ha reso cocciuto il faraone in un certo senso si ha indurito il cuore ecco come detto si ha indurito il cuore si ha indurito il cuore da un punto di vista proprio la traduzione italiana allora in un certo senso quello che noi vediamo come delle responsabilità individuali in realtà noi non sospendiamo il giudizio e Dio che per far perché perché quello è nato cieco non avendo colpa è nato cieco perché la mia gloria potesse brillare perché il faraone era così gli è stato indurito il cuore perché Dio doveva mandare tutti quei castigli e ancora alla fine doveva spaccare le acque e il popolo eletto ci doveva passare in mezzo e quelle migliaia di poveri soldati egiziani dovevano andare dentro allora e io mi piace pensare che loro quegli egiziani nel momento in cui stavano per affogare hanno avuto quel momento di verità è vero il popolo eletto è vero hanno avuto quella luce quel momento del piano di Dio e loro nell'istante in cui sono morti pagani e brutti quanto volete hanno avuto la possibilità di essere martiri per la redenzione quante sorprese avremo noi quante sorprese avremo quante sorprese avremo dove andremo a trovare i martiri dei cavalieri egiziani quando molti diciamo cristiani dell'era moderna perché stiamo puntando magari il dito di qua e di là allora in realtà poi in realtà non mi è piaciuto molto adesso non vorrei scorare però mi è toccato molto quel commento che ho sentito ieri a Radio Maria anche perché pure a San Francisco si fa questa marcia contro per la vita eccetera eccetera oppure per la pace e c'era un commentatore di Radio Maria che diceva anche il padre Livio diceva molto eppure nostra madre santissima Meggiugori lei raramente dice marciate fate dite no lei dice ma pure al padre Copbi dice eliminate tutte le attività che non sono essenziali lei dice non dice scrivete reagite fate lei dice pregate 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 allora questo in realtà come ci fa cadere dice io diceva questo commentatore dice in realtà sono un po' perplesso quando i cristiani vogliono diciamo in un certo senso utilizzare le armi del mondo per ecco da un punto di vista alcuni dicono no bisogna lottare con le cose del mondo allora loro parlano dobbiamo gridare più forte eccetera eccetera però alla fine pare che questa strategia non paghi mai perché tutte le volte che Gesù ha detto Gesù ha detto porgi l'altra guancia non è che bisogna essere fessi e non reagire non dire niente però ecco ci possiamo rendere conti in linea di massima quale sia la strategia di Maria Santissima e quella di Gesù e anche quella di Luisa per il regno della divina volontà e allora ma se permette la cosa più terribile l'applicazione della divina volontà quando durante la passione la Vergine e tutti quanti noi abbiamo detto crocifiggio per me quello è stato il massimo di mettere in atto la divina volontà perché ha voluto da noi una cosa che ogni volta che arrivo a quel punto per me è assurdo che l'abbia detto che la Vergine Santissima l'abbia detto però per la divina volontà non l'ha dovuto fare sì sì e se non l'avessimo detto guai a noi è terribile comunque è terribile comunque è terribile quando arrivo là e quindi diciamo ritornando poi al tuo commento alla tua riflessione certo sì noi possiamo mettere il piccolo diamo così è iniziato il giro di Luisa non è che voglio dire io quello che si deve fare ho chiesto in che modo pratico farlo in questo modo nel modo più semplice possibile il modo diciamo che viene alla creatura secondo le proprie conoscenze oppure dire Gesù io non conosco tutti così come non conosco tutte le specie di pesci sulla terra così non conosco tutti i miei fratelli e sorelle dell'Antico Testamento però io ti voglio glorificare ti voglio ringraziare e voglio amare la volontà di Dio operante in tutti questi esseri sia animali ma umani dell'Antico Testamento e li voglio chiamare a partecipare a questo mio atto allora più di così e insieme a loro ti voglio chiedere il regno della divina volontà e allora questo quello che faceva Luisa insomma quindi in tutta la creazione il mio giro in tutta la creazione perché poi Luisa era molto sofferente non è che Luisa si metteva a fare tutte queste lugubrazioni mentali no no e Luisa era sofferente Luisa questo è il 10 febbraio del 29 il suo giro nella creazione per esempio a volte lei diceva il piccolo ti ama a volte diceva ti faccio compagnia a volte ecco a volte diceva ti riconosco un'altra cosa che dobbiamo pure tenere presente è che per esempio soltanto l'ottobre il 26 nel volume 20 per la prima volta Luisa dice fa chiedere alle cose create il regno della divina volontà quindi non è che comincia subito così voglio dire lei all'inizio ci metteva il suo piccolo ti amo allora dice più ci mette il ti amo più lei conosce più ne prende il possesso più può avere questa dimestichezza addirittura che si sente di poter dare voce e ragione alle cose create e dice adesso ti faccio fare quello che voglio io che voglio che voglio il regno della divina volontà e quindi non è detto che noi diciamo ci dobbiamo stressare a cercare di fare tutto l'importante è che noi facciamo anche un piccolo atto in quest'atto sono diciamo inclusi tutti gli altri ecco infatti dicevi nel ventesimo che è proprio dove parla delle benedizioni questo è un capitolo di meravigliosi sulla benedizione dove fa comprendere benissimo che io benedicendo l'acqua l'acqua riceve la benedizione diciamo c'è la volontà divina nell'acqua allora io benedicendo l'acqua che sto usando l'acqua stessa attira la benedizione divina quindi è questo un circunto incredibile noi con le cose create le cose create che obbediscono ferme la volontà divina in questo circuito incredibile noi comprendiamo la creatura l'oggetto non può dare niente al signore la pena non gli può dare niente però se io ve ne dico il fiore il frutto in quel frutto è contento perché c'è la divina volontà viene attirata nel frutto quindi in questo circuito incredibile dove si sa che proprio lo precise in maniera splendida sì addirittura c'è un capitolo cui forse anche ti poi ti riferisci tu Stefania nel volume 18 dove dice la divina volontà si compie nelle cose create come una sorta di cigliogina nella torta quando le cose create che corrono verso l'uomo vengono utilizzate dall'uomo per fare la divina volontà come dire l'acqua corre l'acqua scende non c'è corre verso l'uomo per dissetarlo allora ma quando l'acqua può compiere lo scopo per cui è stata creata quando l'uomo la beve quando l'uomo la beve per cosa per riconoscendo la divina volontà nell'acqua allora tutto sta a riconoscere la divina volontà allora un atto questa è una cosa bellissima che dice Avres è stupenda illuminante e dice ogni atto può essere un atto indifferente o un atto santificante indipendenza dall'attitudine della creatura dice io bevo questo bicchiere d'acqua bevo questo bicchiere d'acqua perché ho sete fine non c'è niente di male bevo questo bicchiere d'acqua perché è volontà di Dio questo è un atto santificante in cui io mi bevo litri e tolitri inondazioni di volontà di Dio allora questa piccola sinapsi che dal cervello passa al cuore di un atto della creatura che riconosce la volontà di Dio e in questo dire questa è volontà di Dio dice io lo so che tu hai creato quest'acqua e la bevo per fare la tua divina volontà e la riconosco e prendo tutti i benefici tutti i canali di amore di grazia e di cibo spirituale che tu mi dai attraverso quest'acqua questo mi diventa un atto santificante ed è esattamente la stessa cosa da un punto di vista esterno che dire bevo quest'acqua perché siete punto via basta tutto sta appunto apprendere le cose create e farli fare il compimento della divina volontà allora fare il giro nella divina volontà non vuol dire altro che consentire alle creature passate presenti e future e alle cose create di compiere lo scopo per cui sono state create come mettere la ciliegina sulla torta è come mettere il timbro e il suggello della santificazione su tutte le cose e io le ricevo come cose santificanti che mi santificano e come creature che contribuiscono alla mia santificazione perché riconosco la volontà di Dio allora e quindi perché io diciamo penso e amo Mosè io amo la volontà di Dio in Mosè ed amo e riconosco la potenza la potenza e l'onnipotenza del braccio divino in Mosè che riesce a compiere cose grandi ed infinite in strumenti piccoli inadeguati e balbuzienti e quindi e quindi questo santi e quest'arte santificante perché fa operare in me la volontà divina con quella stessa onnipotenza e aumenta anche la gloria e la santificazione dello stesso Mosè e quello stesso Mosè adesso avendo provato questa gloria accidentale così grande lungi da lui volersi separare per un istante solo da un atto che faccio io allora ogni volta che serviranno onnipotenza e ruggire di un no contro una tentazione contro una debolezza o contro una mancanza di coraggio di fermezza Mosè sarà il primo schierato per farmi compiere quell'atto secondo la divina volontà allora questo è come una sorta di diciamo di esercito che si va creando e infatti Gesù lo dice più si fanno questi atti nella divina volontà e ogni atto passato si schiera con un esercito tutto intorno allora come per dire prima c'abbiamo una fila di soldati che ci protegge poi c'abbiamo una seconda fila poi c'abbiamo una terza fila alla fine tutti schierati e anche quando l'anima è debole è stanca e pare dormiente allora quello è il momento in cui gli atti schierati la sostituiscono la suppliscono per dire tu hai lavorato per noi adesso noi lavoriamo per te si 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 tutti diciamo questi concetti degli atti come esercito sono tutti 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 da voi si si perfetto e questo è bello ascoltare quando tu uno ha già letto e li ascolta facendo e continuiamo anche leggendo questa è la causa riprendo per cui tu giri a metà pagina negli atti del mio fiat e nella tua mente passano come tante onde di luce nella quale tu segui e ti senti impressa in te come tante scene la creazione l'uomo è nato di essere creato la regina del cielo è nato di essere concepita il verbo che scende tanti altri atti fatti nel mio volere è la potenza del mio fiat creatore che vuol sempre fare sempre dare senza necessare perciò sia attenta che si tratta di troppo niente meno devi stare in atto di subire l'atto continuato del mio volere creante l'atto continuato Gesù non pare che non ecco questi atti questi atti diciamo sono talmente tanto importanti che la creatura diciamo finché è in terra non riuscirà mai a comprenderne la potenza la potenza di questi atti a me colpisce una cosa quando a volte ci sono magari queste liste di attributi di vita una parte e dall'altra e mi colpisce alla fine del volume 12 quando dice l'iride l'iride di pace l'iride di pace i colori di questa iride sono l'amore la bontà la potenza la sapienza la santità la misericordia e la giustizia queste sette attributi divini poi in un altro in un altro volume mi pare il 13 dice di questi degli attributi divini che sono come dei raggi che vengono fuori dal sole allora come dire Dio la Santissima Trinità lui si è trasportata in cielo vede questo sole e tantissimi raggi e tutti i beati e i santi e anche gli angeli stanno là a succhiare da questi raggi però loro non è che possono comprendere tutto perché è secondo la propria capacità per questo dice una verità in più acquisita in terra di quelle che avrebbe dovuto acquisire Adamo costituisce un seme che poi un seme che resta come un incubazione sulla terra ma in cielo germoglia in cielo si forma una sequoia incredibile e aumenta la capacità di comprensione non soltanto ovviamente dell'anima ma di tutti quanti gli altri beati allora dice di questi 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 raggi che erano gli attributi divini erano appunto l'amore la misericordia la bontà aggiunge la bellezza potenza sapienza santità misericordia e giustizia e diceva quelli che sono meno comprensibili sono vado per esclusione e diceva la potenza e la santità dice quelli che si possono comprendere di più perché noi possiamo diciamo più capire da un punto di vista umano l'amore la bontà la giustizia la misericordia la sapienza possiamo avere una pallida idea però ecco rispetto a questa a questa lista ne lascia fuori due quei due che dice la mente umana riesce meno a comprendere e sono la potenza e la santità questi due attributi divini in realtà per noi sono i più astrusi per la mente umana prima di tutto perché la santità è un'alchimia di tutti gli attributi divini solo Dio è santo allora comprendere la santità vuol dire comprendere Dio il santo santo abbiamo visto già un'altra volta santo dal latino viene il participo passato del verbo sancire sancito sanctus vuol dire affissato confermato tutti gli attributi divini perché la santità è purezza sì ma di più della purezza è giustizia ma sì di più della giustizia amore sì ma non soltanto amore è amore operante amore che perdona amore e quindi la santità è un'attributo divino che per noi è così difficile da comprendere infatti proprio per questo tanti secoli di storia la santità dei santi la santità dei santi è una santità piccolina 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 la santità dei che copia un lembo di un millimetro quadrato della pelle di Gesù la santità di San Francesco la santità che sono enormi santi nel nostro che noi non siamo degni di slacciargli i sandali voglio dire da un punto di vista umano ecco la santità dell'umanità di Cristo è talmente un'altra stratosfera perché non è soltanto la santità umana e quindi ci sono metri e metri di quadrati di pelle non soltanto ma è una santità diciamo che poi voglio dire la pelle costruisce il di fuori ma tutta la santità di Dio che è l'umanità e la divinità nell'umanità di Cristo ecco allora già la santità è un attributo divino quasi astruso per la mente umana un altro attributo divino che non riusciamo a comprendere è proprio questa potenza per questo Gesù non si stanca mai di ripetere se tu sapessi il valore gli atti la potenza di questi atti fatti nel divino volerici infatti non è che cerca di spiegarli più di tanto fa così ma se tu sapessi ma come ma se tu sapessi addirittura nel volume 13 Gesù dice a Luisa chiama tutti quanti venite 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 a vedere la potenza della mia divina volontà operante nella creatura e tutti gli angeli santi puntano il dito verso Luisa e Luisa no no ma Gesù ma perché vuoi esporre ma no perché devi sempre mettere me in mezzo lui fa beata sei tu e tutte le generazioni ti chiameranno beata gli canta il magnificat a Luisa canta il magnificat alla sua volontà operante di Luisa tu sarai il mio braccio opererà cose forti opere potenti in te mi farai ridare mi farai dare da tutte le generazioni e la gloria che non mi danno mi dici ma Gesù ma perché mi fai questo perché faccio questo io ho chiamato in casa la mia volontà non te anzi questo è nulla a confronto di ciò che potrei dire nulla a confronto di ciò che potrei dire e qui si tratta di troppo niente meno devi stare in atto di subire l'atto continuato del volere creante l'atto continuato che è un atto eterno quindi nell'eternità non è diciamo un atto che ha successione è un atto che è in atto allora nel nostro ambiente è un atto continuato che si ripete continuamente continua infinitamente allora il segno che la creatura gira continuamente nella divina volontà è il segno che quest'atto operante in lei viene di divina volontà viene di divina volontà viene operato come questo atto continuato non intermittente prima un po' discontinuo poi andiamo a riempire questi buchetti poi un segmento un buco un altro segmento poi atto continuo vieni 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 divina volontà ad operare in me come atto operante e questo atto continuato è anche quello che Gesù definisce come il livello completo della divina volontà nell'atto della creatura che sarebbe l'atto compiuto l'atto compiuto è un atto che già sulla terra è stato eternizzato lui dice è stato reso eterno cioè non c'è nessuna differenza da quest'atto in cielo e in terra è un atto compiuto perché contiene Dio e tutte le sue opere allora come fa a contenere Dio e tutte le sue opere allora gli atti della creazione e dell'uomo allora l'anima che continuamente gira non ne può lasciare qualcuno fuori come Luisa quando faceva le ore della passione dice sono arrivati al punto in cui la mamma regina che non sapeva era un po' indecisa se la dovevo fare quest'ora oppure no cioè solitamente non la faccio quella delle 4 alle 5 a quell'ora magari diciamo il rosario con le sorelle cima d'uomo oppure mi vengono a portare il bicchiere d'acqua e dice no Gesù dice è venuto no non la tralasciare non la tralasciare allora lui non vuole che nulla si tralasci e Luisa ha detto dall'ora in poi con l'aiuto della sua grazia non l'ho mai più tralasciata e quindi diciamo nel limite delle nostre possibilità perché noi abbiamo dei doveri diciamo nel limite delle nostre capacità mentali fisiche occupazionali quello che ci pare diciamo che il più possibile nella maniera più semplice possibile ricordarci sempre che abbiamo la possibilità di fare degli atti importantissimi degli atti potentissimi chiamare anche se non stiamo lì e non abbiamo la concentrazione di poter fare adesso uno sguardo al cielo chiamano il cielo adesso uno sguardo a tutte le creature ti amo ti amo nel passo di tutte le creature adesso diciamo nella Santa Messa sentiamo la prima lettura che di solito ci parla di qualcuno dell'Antico Testamento dice Gesù ti amo e voglio mettere il mio ti amo e riconoscere la tua volontà e chiamarla ad operare insieme a tutti i personaggi a tutti gli eventi a tutte le circostanze che tu hai disposto nell'Antico Testamento per il fine del Regno allora questo ciò diventa un giro completo che non è che noi siamo monaci di clausura che già dal punto di vista dello spazio del tempo il Signore ha disposto che lo spazio del tempo per loro sia fatto in quel modo se ci sono delle altre occupazioni delle altre limitazioni 5 minuti o un'invocazione valgono 24 ore di giro e l'importante ma sempre ma sempre l'orario alle 3 bisogna farlo e ora l'abbiamo detto se uno alle 3 deve accudire deve fare un'altra cosa o fare così come ridiamo se uno alle 3 sta facendo deve fare un'obbligazione eccetera allora e poi diciamo come diceva lei la spontaneità è regina nel senso che ogni anima si creerà una sorta di proprio cammino del giro una propria una proprio tragitto particolare che scandirà la propria giornata che sarà completamente diverso da un altro eccetera però ecco qui Gesù a parte diciamo questo ci vuole far capire qua si tratta di troppo niente di meno che esso il voler creante non si sentirà ad aver compiuto il suo lavoro in tesso non vede tutti gli atti suoi racchiusi nell'anima tua come attestato trionfo del suo regnare in te perciò tutta la tua attenzione tutta la sua attenzione è guardare se tutti gli atti suoi tengono la vita in te e sai come vengono creati questi atti in te tu col richiamarli col riconoscerli ed amarli e il mio volere col pronunziare il suo fiat nel tuo richiamo e sul tuo amore forma la vita degli atti suoi in te quindi richiamarli vieni divina volontà ti riconosco e ti amo allora c'è il vieni c'è il ti riconosco c'è il ti amo c'è il ti faccio compagnia c'è tutto tutto quello che si può fare tutto quello che lui ci diceva nel più pellegrinaggio ci sono tutta una varietà di atti che si possono fare allora da una parte tu chiami da una parte tu riconosci da una parte tu ami da una parte la divina volontà dall'altra parte pronuncia il suo fiat sul tuo richiamo e la santità come si dice nel volume 13 si forma a due uno costantemente a ricevere un altro costantemente a dare allora il fiat è l'anima l'anima è il fiat un'altra parte dice addirittura in volume 16 questo è il vivere il mio divinvolere l'anima in atto continuo di ricevere l'atto della divina volontà ed è tanta la continuità del suo lavoro in te che non si ferma neppure nel vederti torturata dal dolore della mia privazione qui torniamo all'inizio dove Luisa diceva erano tanti soli questi anni io li dovevo abbracciare sebbene mi sentivo torturata dalla privazione e la di Gesù inesorabile dice questo mio lavoro è talmente continuo che non si vuole fermare neanche con il con il a causa del dolore della privazione anzi dà più valore ai tuoi atti perché fatti in questa in questa tortura perché tiene molto da fare perciò passa avanti e io lo lascio fare perché tu ed io tutto dobbiamo al nostro volere cedergli il primato per il giusto trionfo della sua causa per dargli il campo di formare il suo regno e quindi che fa? dice passa avanti per cui qui c'è anche una nota per dire dove la creatura non arriva ci arriva Gesù nel senso che è lui che tira è lui che c'è il traino c'è il rimorchio e la creatura è come dire attaccata dietro con affare sci acquarico l'importante è tenersi legati a quella cordicella e poi il motore da 4000 cavalli sta davanti che traina l'anima nelle scie del mare della divina volontà questo viene dal 14 luglio 1932 volume 30 Carla ci chiede di leggere un passo molto importante dopo di ciò la mia piccola mente continuava il mio giro nella divina volontà cercando i suoi atti per chiudere i miei atti nei suoni e farne uno solo e tutto questo il contento del mio lungo esilio poter operare insieme col voler supremo far scomparire i miei atti nei suoni perché allora quando il giro nella divina volontà è come dire c'è un atto un atto che è la creazione del sole che è un atto di amore ardente di Dio allora Luisa entra in questo atto entrare nella divina volontà entrare nell'atto della divina volontà vuol dire andarsi proprio a sigillare dentro questo atto quindi è proprio fisicamente chiudere il mio atto nel suo allora entrare negli atti nella divina volontà nella creazione se ce li immaginiamo anche visualmente c'è questi atti infiniti in cui io entro e metto il mio piccolo atto questo mio piccolo atto che si chiude e viene fagocitato dall'atto della divina volontà è piccolissimo ma diventa infinito insieme a quel atto grande si sperde in esso quindi non si può più riconoscere qual è l'atto umano o l'atto di Dio la goccia nostra nel mare mischiata qual è questo mio piccolo atto ecco questo l'ho detto anche io il mio piccolo atto per dire il mio piccolo atto può essere il mio piccolo ti amo ti amo Gesù con l'amore ardente con cui ha creato il sole ti amo Gesù con l'amore ardente con cui ti sei incarnato vengo Gesù a visitarti a farti le mie visite a farti compagnia nel vento imperante perché possiamo portare come vento imperante la freschezza della grazia svegliare le creature dall'etargo della umana volontà fare tutto quello che ci fai per chiudere questo mio atto nel tuo atto unico chiudere questo atto nel farne nell'atto della divina volontà e farne uno solo allora questo è l'atto della divina volontà di cui stiamo parlando in concreto Gesù sta facendo un miracolo che è un atto che uno degli atti della divina volontà è questo allora c'è un volume un passo del volume 14 che mi piace molto questo è un atto enorme della divina volontà allora un atto infinito allora nel momento in cui il mio atto entra così come la creatura si fonde nella mia divina volontà così come entra nel momento immaginiamo questo atto questa pallina piccolina che entra nell'atto grande questa è diciamo è piena è nera è piena di umano e questa qui è bianca e vuota è piena di luce allora questo è l'atto della divina volontà questa è la mia pallina nera nel momento in cui entra appena entra la parte che sta dentro comincia a svuotarsi è bianca quella che sta fuori è nera ancora allora come entra il tuo atto in me nel mio atto il tuo si svuota di te si svuota di te e il mio resta operante nel tuo e il tuo opera nel mio e quando quando entra completamente l'atto l'atto è svuotato completamente di se stesso ed è raggiunge il perimetro completamente vuoto e diciamo che si identifica completamente con l'atto della divina volontà quindi l'atto umano come entra nell'atto divino si svuota di sé si riempie dell'atto divino e si chiude nell'atto divino viene sigillato nell'atto divino e si forma di questi un solo atto così come non si può distinguere due acque che si mescolano la luce la luce di una fonte con un'altra fonte che si mescolano insieme e formano un'unica luce allora fa senso questo punto all'atto concreto facciamo esempi concreti allora io voglio entrare nell'atto di Gesù che sta facendo un altro esattissimo nel senso che poi questo tuo atto si svuota di sé stesso ed acquista l'esatta identica infinita potenza di miracolo dell'atto di Gesù e quindi unita a quest'atto di Gesù il tuo atto compie miracoli compie miracoli di conversione di sanazione per tutte le umane generazioni si mette a girare incessantemente insieme con l'atto di Gesù anzi lo fa girare come particelle elettriche che si diffondano nel letter lo fa girare a partire altri poveri appugno appugno il cielo sento scorrenersi le beatitudini eterne in modo che non mi sento né lontana né estragna dalla mia cara patria celeste onde mentre la mia mente era come affollata dei pensieri sulla divina volontà il mio sommo bene Gesù riprendendo la sua breve visitina mi ha detto mia piccola figlia della mia volontà voglio che sappia che ogni atto tuo in essa tante volte rigenera e tu cresci in modo tutto nuovo nel nostro fiat sicché tu senti il cielo e l'ente supremo è il gran contento di rigenerare nell'atto della creatura forma la nostra vita nell'atto di essa formare la nostra vita nell'atto di essa è la nostra festa i nostri sospiri uniamo tutti i nostri stratagemmi d'amore e riceviamo la completa gloria che ci può dare la creatura ora tu devi sapere che il sacrificio con voce potente chiama a Dio ed il fare la nostra volontà lo fa scendere nell'anima per farlo operare da quel Dio che è e io amor mio adonta che cerco di operare sempre nel tuo volere e prego e riprego che venga il suo regno nulla sulla terra nulla si vede ancora allora volevo un attimino soffermarmi almeno su quello che diceva mi colpisce questa cosa perché il gran contento è di rigenerare nell'atto della creatura perché praticamente mi pare e se mi pare di ricordare verso il febbraio febbraio del 24 nel volume 16 c'è un passo dove Gesù dice Luisa dice a Gesù ma la tua gli atti nella divina volontà per esempio i giri nella creazione sono stati già fatti da Maria e da Gesù allora adesso diciamo questi giri sono sempre in giro allora praticamente Gesù disse ha detto nel momento in cui Adamo si fermò fermò i suoi atti è chiaro che i giri i suoi giri rimangono sempre in atto come atti contenuti nella divina volontà diciamo in cielo però non sono stati più attualizzati sulla terra quindi i miei trastulli sulla creazione i miei innocenti trastulli nella creazione si sono interrotti quando poi è venuta Maria Santissima questi trastulli si sono riattivati un'altra volta e quindi vuol dire che sulla terra che è la chiesa militante dove veramente questi atti della divina volontà che sono in atto in cielo ma non lo sono in terra come in cielo allora che sia fatta la tua volontà in cielo in cielo in terra questi atti sono in atto continuamente i giri di Adamo eccetera però non sono parlanti brava sono muti ha reso Dio il taciturno bravissimo ti sta riferendo proprio a quel passo quindi ha interrotto quegli innocenti trastulli è come se ci fosse un amplificatore appunto sono senza amplificatore sono senza microfono e senza megafono e allora questo rigenerare qui mi colpisce fa quasi riferimento a quel punto lì come dire voglio che tu sappia che ogni tuo atto rigenera nel senso che riattiva tutti i giri tutti gli atti che sono stati fatti nella divina volontà perché la divina volontà aspetta sempre è l'atto richiamante che si fa in terra per potersi attivare nuovamente e tutti i giri passati presenti e futuri si riattivano vengono rigenerati in questo atto perché a un certo punto invece se non vengono fatti sulla terra se c'è un momento di discontinuità tutto tace tutto è silenzio però dici che ogni tuo atto in essa la seconda riguarda un atto ogni tuo atto in essa tante volte rigenera e tu cresci in modo tutto nuovo nell'industrofia in pratica che è un atto continuo se si interrompe si questo è un bellissimo concetto che voglio dire questi questi volumi sono talmente pieni adesso a questo livello 25 che ogni parola dice tutta sappiamo benissimo che nelle cose create la divina volontà ha un atto creante e un atto preservante mentre nelle creatura nell'anima che è creata immagine e somiglianza a Dio è un atto creante un atto preservante un atto crescente quindi mentre il sole non può crescere più grande di quello che è non può più contenere più dell'ardore dell'amore che è stato messo per fargli compiere il suo scopo invece l'anima non ha non ha limiti se noi vedessimo qui l'abisso che abbiamo è proprio da dire da rimanere proprio sulle soglie di un abisso enorme di uno spazio infinito se ci guardiamo dentro il buco che abbiamo è più grande di tutto l'universo altro che galassie ma quelle sono uno stanzino a confronto della nostra anima e questa anima cresce si espande ancora di più perché la sua capacità cresce e man mano che noi la riempiamo dei nostri atti la capacità non soltanto si riempie di questi atti ma si dispone ad aumentare non soltanto il sole si fa più luminoso ma si espande la circonferenza di questo sole e quindi mentre nelle cose create la divina volontà opera come atto creante e atto preservante nell'uomo in virtù proprio dell'anima di natura puramente spirituale e grazie alla divina volontà operante nell'anima della creatura agisce come atto creante preservante e crescente e infatti lo si vede pure nel concepimento di Maria Santissima i mari di amore i mari di potenza e di sapienza e di amore in cui ella venne concepita questi Dio come leggiamo nell'8 dicembre il volume 15 somministrò la sostanza di questo concepimento e questi mari di potenza di sapienza e di amore non soltanto la circondarono per concepirla ma rimasero sempre intorno a lei e non solo per tenerla difesa da tutti ma anche per farla crescere ad ogni istante quindi lei in ogni istante che faceva i suoi atti cresceva sempre di più ma lo stesso Gesù nella sua umanità diceva la Sacra Scrittura cresceva in sapienza perché anche lui doveva fare gli atti la divina volontà è incredibile anche questa cosa nella sua umanità perché anche lui doveva crescere in questo cresceva all'uomo in grazia davanti all'uomo cresceva e dice ma guarda quanto è sapiente davanti a Dio che riusciva a vedere diceva se tu sapessi dice Luisa le tonnellate di divina volontà che io ingoiavo ad ogni atto di volontà divina che facevo e quindi questa parolina cresce e non solo dice che deve fare silenzio perché ogni tanto Luisa dice ma mi parla di tanto prima della mia volontà adesso tu ogni tanto ti fai no devi assimilare il cibo devi fare spazio perché io possa metterci le altre conoscenze perché altrimenti l'ingolfamento come dire impedisce la digestione dell'una e dell'altra ci può dare ora tu devi ah no amor mio adonta che cerco di operare sempre il tuo volere e nulla si vede ancora e Gesù figlia buona questo dice nulla perché tu devi sapere che le preghiere gli atti fatti nel nostro volere siccome entrano nel nostro atto divino hanno tale potenza che debbono portare alle creature il bene che contengono quindi questi atti anche se pare che non succede niente però contengono inglobano tale potenza una potenza super nucleare una potenza infinita che non possono far a meno di ottenere lo scopo per cui sono stati mandati il bene che contengono essi si mettono a guardia dei secoli e li guardano con tanto amore e con pazienza in vita aspettano e riaspettano e con la luce che posseggono bussano ai cuori si fanno luce alle menti e senza mai stancarsi perché sono non sono soggetti né a stanchezza né a diminuire di potenza fanno come i piantoni le fide sentinelle che non si partono se non quando hanno dato il bene che posseggono questi atti sono i posseditori del mio volere ed in modo assoluto lo vogliono dare alle creature e se una sfugge loro un'altra ne prendono di mira se un secolo non li riceve essi non si arrestano né si partano perché abbiamo dato loro i secoli in loro potere e formano e formeranno il nostro esercito divino in mezzo alle umane generazioni per formare il regno della nostra volontà quindi l'importanza di questi atti l'importanza di questi atti come dicevamo prima sono non soltanto importanti per l'anima stessa ma per tutte le umane generazioni anche se non si faranno tutti gli atti stabiliti come dice il signore sia come successo per la redenzione e per il mio volere non può venire il regno e la volontà ecco è proprio quello che dicevamo prima allora che cos'è che farà luce alle menti che cos'è che busserà i cuori che cos'è che otterrà la luce sono questi atti quindi il regno si diffonde su due livelli da un punto di vista umano perché Dio se ne serve delle cose delle attività umane ma c'è questa attività soprannaturale che è quella degli atti che è la più potente e anche quella invisibile in cui certo noi siamo chiamati chi nei tempi e nei secoli chi a tradurre chi a stampare chi a diffondere chi a parlare chi a dire chi a fare questo e quest'altro queste sono le attività della natura che noi abbiamo ma queste sono attività infinitamente minori minori attività minori rispetto all'attività degli atti nella divina volontà allora se ci rendiamo conto di questo ci possiamo rendere conto come diciamo indipendentemente dal nostro ufficio esterno uno può avere in realtà l'apostolo del divin volere si riconosce dagli atti interni lo riconosce Dio dagli atti interni e poi questi atti interni è chiaro che non possono fare a meno di sboccare fuori col voler far conoscere la divina volontà anche tramite le opere esterne però la causa primaria è diciamo è la missione primaria quella degli atti interni che ha anche una potenza infinitamente superiore per dire se Carla stampasse tutto il giorno ma non facesse come fa i suoi atti interni di continua fusione dall'accendere la luce a rispondere al telefono a tutto quanto questi atti interni dico Carla come qualsiasi altra creatura però diciamo l'esempio è calzante allora anche l'effetto della sua attività esterna sarebbe fortemente meno mato ma quello che dà la propulsione reattiva agli atti al lavoro esterno che fa sono gli atti interiori senza degli atti interiori gli atti esterni non avrebbero la reazione non avrebbero il reattore che li spara da tutte le parti dell'universo orbe non soltanto li manda ma non li lascia sulle come dire sulle librerie a prendere polvere ma va lì con la missione di cambiare i cuori e di trasformare le però la propulsione non ce l'ha la pagina in sé c'erano gli atti interni e il sacrificio della creatura infatti dove dice qui ora tu devi dire il sacrificio con voce potente chiama Dio e il fare la nostra volontà lo fa scendere nell'anima per farlo operare da quel Dio che è nell'anima propria e nell'anima degli altri in questi atti c'è l'umano coronato dalla potenza divina e danno il diritto alle creature di possedere un tal regno vi è la nostra volontà operante in questi atti ed ha il diritto a Dio di regnare e dominare col nostro fiat onipotente la creatura essi sono come caparra e capitale che pagano Dio per le creature e tengono diritto di dare alle umane generazioni ciò che hanno pagato come dire formano come una sorta di diritto questi possono avanzare delle pretese allora gli atti hanno una potenza sono dei difensori sono degli arcieri sono un esercito potente sono una sorta di pegno che va da Dio davanti al trono dell'eterno questi atti potenti perché sono atti animati dalla sua volontà dice adesso tu fai questo e Dio come un piccolo uccellino si fa felicemente il ritiro da questi atti si fa felice adora ubbidire alla sua divina volontà operante in questi atti e come sole che né si ritira né si stanca mai di battere la terra con la sua luce per dare i beni che possiede così essi più che soli girano per ogni cuore girano i secoli sono sempre in moto né si danno mai per vinti fino a tanto che non hanno dato la mia volontà operante che posseggono molto più che sanno con certezza di ottenere l'intento e vittoria si stancano le creature se non vedono che da un giorno all'altro non si ottengono i risultati sperati loro se da un secolo all'altro ancora non si vede niente ma mica non si smuovono proprio mi sono sono ecco come dei cinesini disciplinati ecco li vediamo tutti quanti come sono bravi in queste nelle culture asiatico e soprattutto nella ginnastica in tutte quelle cose che hanno bisogno di tanta disciplina tanto non è che si fanno prendere dalla fretta dalle cose no non è successo stavolta riprova sono come una della piletta dura che vanno avanti e questo è il segno dell'anima che viene nella divina volontà che è sempre uguale a se stessa come dire cade boom si rialza cade boom si rialza e fa il suo il suo operato il suo corso perciò se nulla vedi non ti dar pensiero tu continua la tua vita e gli atti tuoi nella mia volontà questo è più necessario di tutto formare la moneta per pagare per i tuoi fratelli un regno sessanto e poi tu devi sapere che la mia stessa vita passata sulla terra e i miei stessi atti si trovano nelle stesse condizioni io pagai per tutti e la mia vita e ciò che feci sta a disposizione di tutti e si vogliono dare a tutti per dare il bene che posseggono e sebbene partii per il cielo partii e restai per girare i cuori i secoli per dare a tutti il bene della mia redenzione sono circa 20 secoli e la mia vita e gli atti miei continuano a girare ma non tutti sono stati presi dalle creature tanto che varie regioni non mi conoscono ancora sicché la mia vita la pienezza dei miei beni e atti miei non si ritirano corrono e girano sempre abbracciano i secoli come uno solo per dare a tutti il bene che posseggono perciò è necessario fare pagare formare il capitale il resto verrà da sé quindi sia attenta e il tuo volo nel mio fiat sia continuo è bellissimo vedere Gesù che si lavora come diciamo il più ecco in modo santo santamente spregiudicato di tutti gli investitori lui sa che il suo progetto loro investe investe tutto il capitale e dice verrà verrà il tempo riceverò interessi abbondantissimi lui non ha non ha paura di investire c'è un passo della divina volontà dove dice tutta ogni diciamo forma in cui Gesù si presenta sono tante sono le forme che acquista la divina volontà di Gesù come gli pare piace la divina volontà si sono le forme che la divina volontà acquista acquista la divina volontà si vuole manifestare come Gesù bambino si manifesta come Gesù per questo diciamo che la divina volontà allora Gesù è l'immolato eterno perché Gesù fa tutto quello che vuole la divina volontà è a disposizione della divina volontà allora nello stesso istante voglio dire nella nello stesso istante nella stessa messa a un certo punto c'è l'elevazione Gesù viene crocifisso oppure alla fine della messa Gesù è risorto diciamo così e sono tante tante manifestazioni tante forme che la divina volontà assume la divina volontà vuole manifestarsi come Gesù bambino ma è concrete perché se io so a un certo punto perché devo soffrire se ormai è glorioso in un certo senso invece la sofferenza che noi sentiamo ma secondo te Gesù nel Santissimo Sacramento che fa? è vivo per me è vivo secondo te soffre? per me sì dice che è nata tutta la passione per me è soffre Gesù nel questo non per me soffre come? allora perché allora perché 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 i protestanti i nostri fratelli protestanti non comprendono nulla della passione perché loro è memoria e non comprendono nulla la passione non riconoscono l'eucaristia le due cose vanno insieme allora Gesù nell'eucaristia è Gesù che soffre la passione allora Gesù soffre anche nel suo corpo nella Santissima Eucaristia allora proprio perché lui è l'immolato eterno proprio perché lui è l'immolato eterno se l'immacolato se il peccato originale non fosse mai stato commesso non ci sarebbe neanche stata bisogna dell'istituzione dell'eucaristia ovviamente allora Gesù soffre nelle umanità delle creature ma Gesù ha anche gli accidenti di un pezzo di pane Gesù può andare a soffrire dove gli pare dove la divina volontà lo vuole mandare a soffrire nella carne certo che la redenzione è continuata quindi è sbagliato quando si dice ma lui è glorioso ormai è glorioso questo è quello che dicono i protestanti cioè Gesù in cielo come Dio glorioso non soffre come diciamo nella sua carne gloriosa ecco nella sua divinità ma nella sua umanità che si incarna nella Santissima Eucaristia voglia come soffre ma voglia come soffre nella sua umanità nelle creature quindi è sempre uomo è sempre Dio sempre eternamente a me una cosa mi colpisce di Maria di Maria Valtorta una cosa che mi colpisce ed è una cosa atroce dopo che Gesù è risorto lui appare a molte persone e va ad apparire anche diciamo va a trovare anche la madre di Giuda va a appare alla mamma di Annalia che se te lo ricordi la mamma di Annalia che era disperata mentre Annalia aveva chiesto diceva prima che tu vai fammi morire infatti lui come è passato il sabato santo come è passato con il somarello lei ha urlato ed è morta è perché Gesù gli ha chiesto e gli aveva chiesto diciamo di farla lui quando torna dalla mamma insomma da uno di questi personaggi lo si vede fisicamente quasi che trema Gesù risorto che trema e Giovanni sta lì sbigottito sbigottito e dice ma come ma tu soffri ancora ma come ma tu soffri ancora e Gesù lo guarda e dice io non smetterò mai e allora Gesù smetterà di soffrire quando il regno della divina volontà è completo lui finché finché c'è sofferenza sulla terra la sofferenza si incarna dentro di lui dentro di lui allora diciamo nel suo corpo nella sua umanità gloriosa lui non soffre adesso bene ma nella Santissima Eucharistia voglia come le soffre la Santissima Eucharistia e l'umanità ovviamente lui nella la divina volontà si può manifestare come buona la Santissima Eucharistia se fa uscire i raggi della divinità la Santissima Eucharistia diventa folgorante diventa una cosa a cui noi non riusciamo neanche a rimanere vivi di fronte alla Santissima Eucharistia però l'umanità Marina l'umanità sofferente di Gesù continua a soffrire nelle creature e anche nella Santissima Eucharistia io però gli dico quanto padre io recitava la Santa Missa lui viveva la sua passione perché lui stava ore e ore contemplato cioè era assente da tutto il mondo ma era tutto preso da su è proprio lì che c'è la passione su certo e infatti tutte le volte che c'è stato io sono stati miracoli eucharistici quali sono stati i miracoli che è successo un pezzo di carne gloriosa no sangue membra sbrindellata fibra cardiaca un pezzo di ventricolo squartato come quello di cui sono stata io che si allanciano che si allanciano tutti tutti i miracoli e si va nella sua diciamo nella sua umanità diciamo nella sua umanità gloriosa non soffre più ma nella sua umanità penante la divina volontà siccome appunto questo atto unico e nell'atto unico Gesù che si incarna Gesù che soffre Gesù trionfante nell'unità nella umanità trionfante Gesù non soffre ma nella sua umanità penante e redimente ha voglia come soffre è là non è tra l'altro questa una cosa non è tra l'altro un concetto perché adesso ci pare che lo afferriamo poi magari domani ci sfugge di nuovo questo però non ci deve preoccupare perché è proprio per definizione un concetto che la mente umana non riesce è un discorso che hai fatto prima la potenza sulla sapienza è impossibile è impossibile la potenza della divina volontà appunto è una cosa che meno la potenza della divina volontà che di tanti atti ne fa uno di uno ne fa tanti e che allo stesso tempo fa tante diverse cose allora mentre noi possiamo dire l'amore l'amore la misericordia la giustizia la santità e la potenza abbiamo qualche difficoltà normalmente cioè per cui ecco è qui che rientra la fede è qui che entra la fede beh la stessa fede che mi fa sempre domandare proprio per la Vergine Santissima che ha legato la sua volontà al trono del Padre sapendo quello che ha provocato la volontà umana in Adamo allora sorbono quelle domande ma lei ab eterno era in Dio già nella concezione trinitaria Adamo è venuto in un certo senso in un secondo momento come ha fatto lei prima a vedere quello che avrebbe fatto dopo e a legare la volontà se tutte domande che mettendole tutte in ordine nel tempo come faremmo noi non ci stanno no e lei diciamo che nel momento del suo concepimento quindi quando aveva anche un diciamo una natura terrestre ecco esatto nel concepimento quando è venuta sulla terra però la si capisce anche prima anche quello che dice lei prima ancora che scendesse per aver promesso il Signore ad Adamo cioè tu la donna ti staccerà quindi già c'è il sapere che ci sta questa donna pronta quindi se vogliamo mettere i tempi con i tempi c'è un primo dopo che nella nostra mente non è che qua di tanto no perché è l'atto eterno diciamo però noi possiamo dire che d'accordo perché mentre in Dio c'è un'eternità e in quest'atto eterno allora se noi vogliamo vedere vogliamo comprendere Dio nella sua eternità e l'atto unico ci guardiamo allora l'unica è vedere come questo atto unico si svolge nel tempo si svolge nel tempo allora nel tempo c'è Adamo che pecca e Maria Santissima nel momento viene diciamo viene dopo Maria Santissima e allora siccome già nel momento in cui è istantachemente concepita ha questa ragione divina dice guarda che cosa ha combinato la volontà umana prima ancora di utilizzarla nel momento in cui ricevette questa scienza infusa la lega ai piedi dell'Eterno e quindi questo è quello il primo atto di Maria Santissima soltanto dopo questo atto di legare la sua volontà ai piedi dell'Eterno fa un atto di adorazione neanche si concede un atto di adorazione con la sua umana volontà perché sarebbe stato niente quindi prima lega la sua volontà ai piedi dell'Eterno poi adora la Santissima Trinità e poi si offre a qualunque sacrificio pur di non fare la sua umana volontà questo diciamo sono i primi tre atti che fa Maria Santissima quando viene concepita che in certo senso è avvantaggiata rispetto a Adamo perché Adamo il storio lo giustifica perché non aveva la conoscenza del male prima e quindi in un certo senso non aveva esempi per cui stare attento la Vergine Santissima ha avuto l'esempio di Adamo caduto e allora dice no non la voglio la volontà umana se no Adamo ha fatto così questo però penso che sia un po' spiegazioni pure no no è vero è vero ma comunque c'è da dire questo Adamo siccome proprio perché Adamo non aveva diciamo era più giustificato in un certo senso la redenzione venne promessa immediatamente e Adamo non peccò più quindi diciamo il Signore fu molto clemente nei confronti di Adamo con Maria Santissima fu molto meno clemente nel senso che la prova che lei dovette subire e le pene allora se noi mettessimo su un asse a me piace questa giovedì cartesiana non so perché ma se mettessimo diciamo ci sono qui lo zero e qui ci sono i livelli di prova qui c'è la prova che è Adamo questa è l'intensità della prova questa è la prova di Adamo questa è la meletta la meletta di Adamo allora poi dopo che viene il concepimento di Maria Santissima la prova di Maria Santissima che le durò tutta quanta la vita e fu la prova della conoscenza delle pene del verbo incarnato il fatto che lei conoscesse le pene che il verbo le pene interne non le pene esterne le pene interne le pene divine e che lei fosse madre di queste pene cioè il suo crocifiggilo durò per tutta la vita immagina tu che non lo riesci a pronunciare lei lo dovette pronunciare e fu madre di quelle pene divine perché la paternità divina nei confronti di Gesù si depositava in lei quindi lei era il padre diceva a Gesù ti voglio morte molto crocifisso e questa sulla terra era la madre che diceva in ogni istante ti voglio morte molto crocifisso e lei moriva con lui allora questa prova che derivava da Maria Santissima dalla conoscenza che lei aveva delle pene che soffriva Gesù altro che meletta poi c'è la prova di Luisa la prova di Luisa diciamo che sta molto più piccolina però io penso che più alta di quella di Adam sicuramente più alta di quella di Adam perché c'era una posta in gioco più elevata nel senso che dice ha sgarrato una volta sì ma adesso infatti aveva danzato esatto ho fatto un gioco un gioco danzato con Adam una volta mi è andata male adesso si sgarra adesso si può sgarrare e quindi Gesù l'ha dovuta temprare provare 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 guarda che i demoni si sono accaniti con lui sì sì allora quella è stata la prova di Luisa e che era la prova diciamo della proprio la persecuzione la prova del demonio e anche la prova della pena della privazione questa questa quindi diciamo la meletta Maria Santissima un doppio della meletta il guerriero con la forca contro Luisa e poi che prova c'è la prova per i figli di mimbolere però c'è la dice che la fa lui per noi però lui sa la scritta su un atto dobbiamo metterci con le due è la provetta la provetta appunto è la provetta dove questa provetta si costituisce di tre parole accetto credo voglio cioè voglio vivere accetto il dono della divina volontà io credo che me lo vuoi dare e voglio vivere nella divina volontà questo questo quindi diciamo la prova si diciamo dopo il giorno qualcosa succede faccio quest'atto così tutti gli atti sono coperti dalla divina volontà si riferisce a quel brano questa preghierina al volume 14 quando Gesù dice appena sveglia Luisa appena sveglia lui non dice non dice delle parole specifiche come sono qui che le parole possono essere scelte come queste o simili lui dice letteralmente quando al primo sorgere del giorno l'anima si decide e conferma di voler vivere e operare solo nel divinvolere anticipa previene tutti i suoi atti li fa scorrere tutti nella divina volontà quindi è una decisione una conferma interiore di voler fare tutto nella divina volontà e questo si può fare con questa bellissima preghiera e dice però proprio di entrare appena sveglia entra appena sveglia al sorgere del giorno l'anima entra nel marimesso del mio e fissa la tua volontà nella mia ah si 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 fissa l'anima fissa la volontà nella mia si fissa la volontà nella mia mio dolce Gesù entro nel marimesso della tua volontà fisso la mia volontà nella tua e ti chiedo la tua volontà come vita mia come vita di ogni mio atto interno esterno volontario involontario signore che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore adorazione gloria dato che la divina volontà è luce e tutti i suoi atti sono luce allora immaginiamoci questo fondersi come un canale di luce che si apre tra il pensiero di Gesù e il pensiero della creatura attraverso questo canale di luce ecco vieni divina volontà tu sei Gesù no? io sono la creatura allora in questo canale di luce siccome la luce si fonde tutta luce allora i pensieri di Gesù inondano come luce i pensieri della creatura informano i pensieri della creatura si fondono ed entrano e viene Gesù a pensare nella mia mente ovviamente la luce circola quindi il pensiero di Gesù che pensa nella creatura rientra anche in Gesù ma Gesù la mente di Gesù è collegata con le menti di tutte le creature allora come faccio io ad essere collegata con la tua mente con la tua mente con la tua mente con la tua mente devo essere collegata con la mente sua perché c'è un raggio che mi porta alla mente di Gesù ma la mente di Gesù ha dei raggi con tutti voi allora io per entrare in ciascuno di voi devo entrare in Gesù una volta che sono fusa in Gesù ho accesso alle menti di tutte le creature allora quando dico vieni divina volontà a pensare nella mia mente implicitamente dico vieni Gesù io fondo il mio pensiero nel tuo e il tuo nel mio si apre questa corrente quindi è l'unico pensiero divino quello di Gesù che opera nella mia mente e quindi io vengo a pensare a offrirti il pensiero santo tuo a nome di ogni creatura possiamo immaginare che Gesù dà la sua ispirazione di pensieri santi a ciascuno di voi e qualcuno delle creature invece che cosa fa lo rigetta mette un muro allora questo pensiero vi rimbalza Gesù come spina come tortura un pensiero cattivo l'ingratitudine allora tutti quegli impedimenti tutte quelle chiusure tutte quelle ingratitudini tutte quelle incorrispondenze questo è quello che può fare la creatura li può riparare collegandosi con Gesù si collega con i pensieri di tutte le creature dove ci sono blocchi li sblocca dove ci sono ingratitudini le ripara dove c'è indifferenza c'è somma corrispondenza e quindi diciamo questo è quello che si fa e lo abbiamo detto in una poca piccola parola ma gli effetti sono potentissimi ecco ma la divina volontà è Gesù è certo sì lui si identifica allora la divina Gesù Gesù è una manifestazione della divina volontà è la manifestazione della divina volontà in una parte del volume 13 dice quando c'è la barchetta vi ricordate la barchetta nel mare il mare dice questa barchetta va velocissima allora Gesù la barchetta è la creatura con il motore della barchetta e l'umana volontà che fa i giri il mare immenso è la mia divina volontà allora lui alla fine Gesù dice ma che temi non sono io lo stesso mare dice così e lui si identifica dice sei tra le mie braccia stando nella divina volontà non sono io lo stesso mare Gesù si identifica con la divina volontà l'abbiamo detto pure ieri Gesù è la manifestazione è la rivelazione del padre e quindi è la parola è la divina volontà che si manifesta Gesù bambino Gesù cosciutisto Gesù risorto Gesù predicante sono diverse manifestazioni diversi atti della divina volontà ecco e quindi potremmo dire che la divina volontà è più grande di Gesù è lo stesso lo dice di parte quando si nasconde Luisa perché c'è mani per altri beh sì sì lo diciamo Gesù però è persona sì certo appunto per questo appunto per questo diciamo che Gesù è la manifestazione della divina volontà come persona la seconda persona della Santissima Trinità e anche nel volume 12 quando Gesù quando Luisa viene attratta da Gesù nel mare della sua passione la passione che la stessa divinità ha inflitto all'umanità di Gesù Luisa nuotava nel mare immenso delle pene del verbo incarnato e dice se Gesù non mi avesse ritirato nel maricello della sua umanità io non sarei stata più in grado di ritornare quindi Gesù si identifica con la divina volontà diciamo che Gesù nella sua umanità è una persona incarnata e lui è molto più piccolo della divina volontà è il centro della divina volontà che è una una circonferenza infinita in cui centro necessario assoluto primario è l'umanità di Gesù come nella sua divinità nella sua divinità la vita della divinità è la stessa divina volontà in quel senso lui si identifica con la divina volontà perché nella sua nella sua divinità egli contiene tutto Dio e tutte le sue opere e quindi che si svolgono continuamente questo non è altro che vita della Santissima Trinità uguale divina volontà Marina facendo anche noi l'atto preventivo per quel giorno nella divina volontà lo facciamo per tutta la nostra vita certo certo però ecco sappiamo che la vita è costituita da una successione io lo faccio il giorno per il giorno sì però poi quello va nella divina volontà per tutta la nostra vita che rimanga il giorno d'accordo sì Gesù mi chiede anche di entrare il colore divino nel 33 dice richiamate sempre la divina potreste adesso io che non ero un po' rischia su questo nel 33 lui dice proprio su ogni cosa richiamate la divina volontà io c'è una cosa che volevo chiedere a Marina perché sono mancata a diversi incontri siccome personalmente sto facendo la prima cosa della fusione dell'umanità di Gesù ed è una cosa che sto sentendo che sto forte di fare io la prima cosa la sveglia le preglie le preglie le preglie le preglie le preglie è la fusione e l'operare primaria tutte queste preglie sono successive bellissime allora faccio la fusione e poi faccio l'umanità di Gesù spiega proprio quello che l'atto primario è necessario la fusione dell'umanità di Gesù infatti bisognerebbe metterla avanti prima fare questa in effetti vieni divina volontà vieni Gesù a pensare nel mio pensare io sentivo l'altro giorno quando noi stavamo qui con lei che aveva fatto questa preghiera e dentro di me sentivo questa cosa ma la mia fusione dell'umanità la fusione dell'umanità infatti lei poi ha confermato ci sia vero dovrebbe essere in questa maniera sì è bello quello che stai dicendo perché ci dà in un certo senso vedi man mano che entriamo nelle conoscenze in realtà la divina volontà è un punto solo unico noi dovremmo stare qui a fare om tutta la giornata però in realtà dobbiamo sminuzzarle spezzettarle le cose e Gesù ce le sminuzza in conoscenze in piccoli atti ed è bellissimo quello che tu dici perché in realtà l'umanità di Gesù è la parte più accessibile del verbo incarnato cioè l'umanità è la divinità e pure Luisa stessa nel volume primo dice se non fosse stato per l'umanità di Gesù che mi infondeva fiducia io sarei morta così veramente in adorazione della sua divinità allora è vero che è importante in un certo senso quasi da un punto di vista semantico però dire prima vieni Gesù a pensare nel mio pensare e in un certo senso ci si rivolge al Gesù incarnato ad una umanità e questo è l'accesso alla divina volontà è l'accesso ecco l'importante però è capirle queste cose quando noi ci siamo capiti mi sveglio a qualsiasi ora della notte o la mattina la prima cosa che mi fa cioè che sento di fare è bellissimo perché anche se diciamo poi alla fine questi libri sono stati messi insieme così e diciamo a seconda di come si sviluppano come vengono le conoscenze poi ci si rende conto e dice vedi vedi in realtà questa cosa logica viene prima di quest'altra cioè è un crescere continuo anche diciamo tra di noi e l'importante poi alla fine non è che il libro sia perfetto o altro ma che la conoscenza in noi aumenta così noi lo dominiamo questo non è che lui ci domina a noi capito? proprio perché abbiamo fatto questo poi subentrano le altre certo è bello è bello che ci sia questo perché è una fonte una fonte inesauribile di riflessioni e di nuovo apprendimento è un canovaccio su cui si possono non capire il fatto di non perché devo ripetere sempre di emili di una volontà a operare in me nel trentatresimo lui dice io desidero questo proprio io desidero questo proprio per voi di volta in volta Luisa spesse volte usava il verbo vieni vieni divina volontà poi nel corso dei volumi per esempio quando faceva i suoi giri lei faceva i giri a volte in modo diverso a volte metteva il suo ti amo a volte diceva ti riconosco divina volontà nell'immacolato concepimento nel sole cioè vieni divina volontà in realtà sono tutti aspetti in cui la creatura non fa altro che disporsi a ricevere la divina volontà operante come vita quindi quello che quello che è implicito dice ma perché dico vieni divina volontà io voglio non voglio la divina volontà sta in me però io dico vieni divina volontà ad operare in me come vita allora perché la divina volontà è già in me e mi mantiene in vita mi mantiene come io non posso dire vieni divina volontà vieni per il mantenimento perché già ci sta però già il fatto di dire vieni implica una sorta di atto cosciente di riconoscimento quindi il vieni è un ti riconosco allora l'invocare la divina volontà è fare lo spazio dentro di noi affinché la divina volontà possa in realtà venire ad operare con un regime superiore allora io non dico vieni divina volontà diciamo ad operare quasi nel mio inconscio perché la divina volontà è comunque già operante però viene divina volontà ad operare come un cielo così in terra in me allora questo ha senso perché questo è un regime superiore ed è la divina volontà che ha bisogno del riconoscimento e della chiamata della creatura proprio per poter venire ad operare come un cielo così in terra per cui tutto diciamo visto come termini staccati separati magari però questo vieni implica viene ad operare con il regime come un cielo così in terra diciamo con un regime superiore e questo questo vieni già implica l'atto di voler riconoscere la divina volontà e quindi formare lo spazio per farla venire altrimenti ecco lui sa pure dice vieni vieni però dice ma tu già stai in me che ti chiamo a fare così l'ha detto mille volte e dice ma Gesù ma tu non sai qual è la gloria e la gioia che proviamo quando la creatura ci chiama ad operare in se stessa così come noi operiamo in cielo e quel venire quel chiamarci è in realtà un disporsi della creatura sempre di più a formare il vuoto affinché noi possiamo operare quindi diciamo continuiamo pure a dire vieni con la conoscenza che abbiamo di tutto quello che questo significa e poi in realtà siccome nella divina volontà è un atto unico la creatura nella divina volontà acquista le virtù dell'operare della divina volontà che è quello dell'atto unico però è come una sorta di e a noi ci sembra strano perché viviamo nel tempo e nello spazio con atti sequenziali per cui la cosa che si avvicina di più all'atto unico nell'eternità è l'atto ripetuto nel tempo allora se io dico vieni 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 è come se fosse vieni allora noi lo possiamo ripetere perché questo nostro ripetere è quello che si avvicina di più nel tempo all'atto unico eterno che è in Dio quindi lungi dal voler togliere importanza ai vieni precedenti come se non fossero abbastanza potenti e dicendo devo fare un altro altrimenti no dice no il tuo atto ripetuto è proprio la virtù è il segno che la mia volontà opera in te perché più la creatura possiede l'atto e più lo ama e più lo ama più lo ripete perché la divina volontà ama tanto i propri atti che non sa fare meno di farli in continuazione anche geloso ecco come i bambini infatti come i bambini che vogliono fare continuare a fare sempre lo stesso gioco no perché il venire è il possedere il possedere è l'amare l'amare è il non dire mai basta sì e lui stesso si fa l'attore il custode dei suoi atti nella creatura non facciamo l'eco di questa preghiera di questa Gesù che sta armato geloso a custodire i suoi atti che si questo è anche molto bello grazie fondo fondo quindi mio Gesù la mia intelligenza nella tua intelligenza che è collegata con l'intelligenza di tutte le creature pertanto fondendo la mia intelligenza nella tua intelligenza anch'io ho accesso a questo collegamento a questo raggio di luce che mi connette all'intelligenza di tutte le creature e nell'intelligenza di tutte le creature voglio darti l'adorazione l'atto di contemplazione di comprensione di conoscenza di adorazione che tutte le intelligenze umane ti devono in particolare potremmo dire intelligenza memoria volontà padre figlio spirito santo ecco l'intelligenza come conoscenza del creato che opera del padre allora tutte le intelligenze umane ti offro un atto di adorazione di ringraziamento per tutta l'opera della creazione in cui brilla in modo particolare la gloria del padre poi fondo la mia memoria nella tua memoria e siccome la tua memoria è collegata come da filo elettrico alla memoria di tutte le creature io essendo connessa alla tua che è il centralino posso andare nelle memorie di tutti quanti e all'interno della memoria di ciascuno io che cosa voglio fare voglio aprire questa memoria umana voglio far uscire tutte le memorie dei risentimenti delle cose cattive delle conoscenze non necessarie delle conoscenze cattive delle scienze umane sterili delle parole brutte tutto ciò che di memoria umana e peccaminosa ha soltanto l'odore per fare spazio alla tua memoria divina alla memoria di che? alla memoria delle parole del verbo fatto carne quindi alla memoria di tutto ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi non soltanto ha detto ma ha fatto quindi voglio nella memoria di ciascuna creatura con questa memoria dare ringraziamento per tutta l'opera della redenzione a Gesù Cristo e quindi abbiamo stiamo coprendo intelligenza memoria volontà padre figlio spirito santo creazione redenzione santificazione in quanto adesso fondo la mia volontà nella divina volontà e siccome la tua volontà è legata alla volontà è madre della volontà di ogni creatura io tramite questa divina volontà entro nella volontà di ciascuno e riparo per ogni atto ingrato per ogni rifiuto per ogni incorrispondenza alla grazia e voglio in ogni umana volontà aprire questi cancelli cancelli talmente arrugginiti delle umane volontà di tutte le creature e aprire e dico vieni Spirito Santo vieni Spirito Santo vieni tu a portare la santificazione della divina volontà e quindi impetrare la santificazione di tutti e che tutti possano vivere di volontà divina e questo in onore al terzo fiat che è l'opera in cui splende in modo particolare lo Spirito Santo ecco quindi diventa una purificazione totale sì diventa una fusione un atto un giro completo un giro completo nelle opere della creazione della redenzione della santificazione tramite le tre potenze dell'anima fuse nella divina volontà fuse nelle potenze diciamo del verbo incarnato allora leggiamo insieme fondo il mio sguardo nel tuo sguardo ecco mentalmente possiamo fare quello che abbiamo fatto per la memoria per l'intelligenza per la volontà immaginiamoci di trovarci come il viaggio nell'uomo il viaggio nel corpo umano ci troviamo dietro le pupille tra la retina e la sclerotica e l'iride il cristallino dell'occhio di ogni creatura e da quella da quella riceviamo nell'occhio di ogni creatura la luce esterna della divina volontà e vogliamo corrisponderla con la luce interna che è la luce di corrispondenza di grazia di amore di purezza e non di sguardi rivolti alla carne al mondo e a cose che non glorificano Dio per dare a Gesù la gloria di tutti gli sguardi umani rivolti soltanto a lui alla contemplazione del suo volto santissimo e così ugualmente il mio olfatto nel tuo o Gesù perché mai nell'antico testamento si fa sempre riferimento a quelle offerte di carni bruciate il cui odore era piacevole a Dio non è che a Gesù piacesse a Dio piacesse necessariamente l'odore dell'agnello arrostito o del sangue bruciato ma l'odore è diciamo quella parte intangibile del corpo tangibile e quindi è come si spiega nei volumi la carità con cui viene fatto l'atto allora possiamo dire che il mio olfatto nel tuo è come dire voglio offrirti diciamo il profumo della carità dell'atto di tutte le creature come se tutti fossero stati fatti e avessero fossero stati fatti con intenzione di carità divina ecco la mia voce nella tua nella tua voce l'avevamo visto ieri come fare i nostri giri nella divina volontà fare i nostri atti e come dare nuova voce agli stessi giri e gli stessi atti che ha fatto Gesù e rinnovare sulla terra i trastulli per la divinità e il godimento che la divinità provava a tutti gli atti di Gesù ecco concludiamo il mio udito nel tuo udito e l'udito di Gesù è collegato all'udito di ogni creatura e l'udito di Gesù è martoriato come da insulti e bestemmia ogni qual volta l'udito della creatura non è rivolto ad ascoltare la voce di Dio ma ad ascoltare la voce del vicino oppure la voce del mondo oppure le voci del nemico che suggeriscono altre cose altre vie da percorrere e quindi fondendo il mio udito nell'udito di Gesù vogliamo collegarci con l'udito di ogni creatura è come se riorientiamo il padiglione auricolare di ogni creatura verso la voce di Gesù e quindi Gesù riceverà la gloria il verbo la parola qual è la più grande gloria che la parola può ricevere avere delle orecchie che l'ascoltano e delle orecchie che portano la sua parola al cuore e quindi fondendoci nell'udito di Gesù e riaggiungendo l'udito di ogni creatura e riorientando questo udito alla parola di Gesù diamo a Gesù la gloria della sua parola ascoltata fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere qui possiamo continuare in tanti modi ma ovviamente ci possiamo non possiamo essere collegate adesso immaginiamo di essere collegate alle mani e alle opere di tutte le creature quanta riparazione non possiamo adesso compiere quanta riparazione innanzitutto compiamo tutte le cose che faceva Gesù con ordine e prima di tutto dava al Padre la gloria del lavoro umano ecco diamo a Gesù la gloria del suo stesso lavoro delle sue stesse opere non soltanto le opere di Gesù ma le opere di tutta la Santissima Trinità tutte le opere divine e poi ripariamo per tutte le opere fatte male per le opere belle ma fatte con cattiva intenzione le opere belle ma finte che sono quelle che danno più orrore e dolore a Gesù quelle fatte di finzione quelle dove c'è la parvenza il sorriso poi invece dietro c'è il marciume e sono un buon siamo seri un buon 90% delle opere di questo mondo c'è sempre l'umano c'è sempre l'interesse e quindi queste opere non sono mai pure e Gesù dice io le guardo come un non nulla oppure addirittura mi fanno schifo dice lui ecco allora con questa fusione diamo al Padre la gloria delle opere sante di Gesù e le opere di tutta la Santissima Trinità ripariamo per le opere malfatte facciamo le opere non fatte ed impetriamo per le creature la santificazione delle mani e delle opere perché tutto possa essere fatto con un unico scopo piacere a Dio e ottenere e aumentare la sua gloria il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro ammuniamoci anche e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue o mio amato Gesù c'è un passo mi pare in uno dei volumi più alti non so se il 28 il 29 che parla proprio di questi atti nostri del nostro organismo che sono degli atti involontari il palpito il respiro e la circolazione del sangue e con questa fusione continua con Gesù il cui palpito è collegato al palpito di tutti immaginiamo che adesso noi uniti al palpito di Gesù stiamo palpitando nel palpito di ciascuno allora il palpito è questa vita che si perpetua ma come sta vivendo la creatura in questo momento dove rivolge la sua vita al peccato alle cose del mondo questo palpito anche se è un atto involontario però voglio dire tutto il resto della creatura opera volontariamente quindi questo palpito è coinvolto in tutto l'operato della creatura e quindi dove va la volontà va anche il palpito se la volontà sta peccando anche il palpito è un palpito malsano se il respiro anche se il respiro è involontario se la creatura sta correndo camminando verso il male anche il respiro è il respiro peccaminoso e quindi diciamo questi sono atti involontari che però seguono il punto dove la creatura si dirige e allora invece noi vogliamo fare tutto il contrario e uniti al palpito alla respirazione alla circolazione di Gesù dargli il palpito come dice lui stesso dell'amore ardente la respirazione dell'adorazione profonda e la circolazione della gloria perenne o mio amato Gesù questa differenza in mano che si verifica tra la preghiera limitata circoscritta pur nella grazia pur con la mia intenzione e la preghiera universale potente e divina dello stesso Gesù questa preghiera questa differenza così in mano come fa come fa a verificarsi qual è qual è la cosa che deve succedere perché anziché un granellino di sabbia ci sia questa infinità l'unica cosa che serve è che la creatura ci creda ci creda che è così ci creda che Gesù è talmente potente che Gesù lo può fare che Gesù vuole darmi questo dono che Gesù vuole compiere questo prodigio in me e non so se veramente dice ma ci credi adesso che tu puoi veramente dare tutte le mie riparazioni ottenere tutte le grazie infinite per tutte le creature non soltanto per un gruppo circoscritto anche se tu sei indegna anche se tu ti senti peccatrice anche se tu non te lo meriti e chi se lo merita ma ci credi allora dillo ci credi sì e dillo perché è fatto quindi da parte nostra veramente non serve niente il merito la bellezza la vecchiezza la gioventù la intelligenza non serve assolutamente niente tranne che la semplice credenza la fiducia completa che ciò si può fare e la conoscenza di ciò che avviene niente altro non c'è cosa più facile al mondo eppure la differenza tra un granello di sabbia è un'infinità di universi quindi l'abbandono totale il riconoscimento totale che Gesù a farlo in me comunque praticamente al posto di Gesù e quindi nel mio atto è lui che agisce è lui che ripara e quindi certo certo sì no no io dicevo questo chiedere che venga la sua volontà nel mio atto sì è anche un mezzo per sapere riconoscere quello che Dio vuole da me sicuro sicuro sicurissimo bellissimo è proprio questo qui mamma mia quanto ti capisco no no ho capito quello sì sì voglio dire grazie ma no quello che dicevi tu è molto importante il chiamare la divina volontà ad operare nei nostri atti ci aiuta anche a capire qual è la divina volontà allora il chiamare la divina volontà ad operare come vita in noi ha anche un potere di discernimento della divina volontà assolutamente sì assolutamente sì perché allora mettiamo qui la volontà di Dio ci sono due cose la prima che è conosciuta dalla chiesa è quello di fare la volontà di Dio fare la volontà di Dio vuol dire che io ho la mia volontà umana con questa volontà umana in qualche modo tramite la grazia tramite qualcuno che me lo dice tramite l'obbedienza tramite l'intuito tramite l'espirazione io capisco qual è la volontà di Dio e la faccio però sono sempre due volontà adesso qui cancella tutto operiamo in un piano diverso cioè mi corrego non è cancella tutto nel senso che si deve sempre fare la volontà di Dio ma si fa la volontà di Dio non con la volontà umana ma con la stessa volontà di Dio allora vivere nella divina volontà vuol dire fare la volontà di Dio ma come con la volontà umana no con la volontà di Dio allora se tu è chiaro questo sì allora se tu chiedi se tu chiedi alla divina volontà dice volontà divina vieni tu in me ad operare perché tutto quello che faccio voglio che lo faccia tu in me possiamo minimalmente immaginare che la volontà divina si metta a fare qualcosa che lei non voglia fare ecco allora quindi il vivere nella divina volontà implica necessariamente il fare la divina volontà allora io posso saltare quella cosa che dice che cosa vuoi che io faccio devo discernere cioè vado a destra alla sinistra con progresso quest'altra cosa mi faccio suora o mi sposo allora non è che sto ridicolizzando no 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 non sto trivializzando ecco però ecco l'attenzione della creatura si può finalmente liberare da queste cose per dire io salto questo passo perché in questo passo se io ti dico volontà divina anche se io capisco che cosa devo fare poi alla fine lo devo fare con la mia volontà e quindi lo posso fare male mi posso distrarre so quello che devo fare anziché andare qui vado di qua allora in realtà dico io non solo voglio fare la divina volontà ma taglio la testa al toro e dico volontà divina vieni tu a farla in me e allora quando invochiamo la volontà divina ad operare come vita in me già ho incluso la richiesta di fammi conoscere la tua volontà perché nel momento in cui la fai tu me la fai conoscere chiaro? certo si ma poi camminando piano piano si è tutto un cammino è tutto un cammino però quella cosa importante è che l'attenzione l'energia della creatura non si spende non si spende più tanto al livello del discernimento perché quello può essere un po' diciamo una sorta di tormento per la mente umana no? dice ma qual è la tua volontà dice allora Gesù dice non è che io non te lo voglio sapere ti chiedo un'altra cosa non ci pensare chiedi con la mia volontà chiedi chiedi Gesù vieni ad operare tu in me con la tua stessa divina volontà è come dire fammi operare quasi inconsciamente diciamo non mi chiedere non mi chiedere cosa vuoi che io faccia dice Gesù qualunque cosa che tu vuoi che io faccia e vieni la tua a fare in me è diciamo un approccio completamente diverso perché la creatura si libera da un'irresponsabilità in un certo senso voglio dire nel senso che si libera dal dover capire da dover capire prima dice devo capire prima devo discernere si alleggerisce diventa più leggera dice perché io sono convinta e sono sicura perché a costo della vita ho detto Gesù questa mattina con l'atto preventivo ho detto Gesù a costo della vita non voglio fare un atto che sia uno fuori dalla tua volontà non soltanto voglio fare la tua volontà ma voglio farla con la tua volontà e allora siccome ho fatto questo atto preventivo e lo intendo come verità a costo della vita e mi siete tutti testimoni io posso essere sicura come protesto come giuramento suggellato proprio nella divina volontà che quando chiamo la divina volontà la divina volontà non soltanto mi fa fare quello che vuole ma viene lei stessa a farlo ecco quindi il vivere del divinvolere elimina tutte le cosiddette perdite di tempo delle santità umane ma potrà anche fare la consacrazione non so se ho visto la consacrazione alla divina volontà ma secondo te dire sì sì secondo te dire vieni di una volontà divina vieni tu non è una consacrazione alla divina volontà comunque c'è altre che dice questo una delle cose che lui sottolinea hai ragionissima ed è la consacrazione allo spirito santo sì sì no no penso che anche tu hai capito quello che voglio dire a seconda lui conosce le disposizioni delle creature conosce anche quali erano le disposizioni dei vari santi le disposizioni dei personaggi dell'antico testamento di tutte le creature e quindi quando questi atti vengono adesso fatti sulla terra dalle anime che vivono nella divina volontà vanno ad incrementare la gloria accidentale accidentale dei santi di tutti le creature che si trovano in paradiso in proporzione alla loro disposizione di quanto avrebbero abbracciato questo dono semplicemente se ne avessero avuto la conoscenza e Dio è sommamente giusto non priva nessuno allora nessuno può dire eh grazie io sono vissuta nel 1200 stavo nel medioevo ah che barba sono morta con uno strumento di tortura e adesso vengono figli il divino volere invece no non funziona così funziona che anzi la gloria accidentale e la beatitudine e la santità viene addirittura incrementata e la gioia di cui questi santi godono viene aumentata proprio quando sulla terra si fanno questi atti proprio in proporzione della loro della loro disponibilità della loro umana volontà a fare la divina come dice Gesù a Luisa ogni volta che si prega ogni volta che la chiesa prega e ha pregato nei secoli era per te che pregava Luisa te ne rendi conto allora loro dicono finalmente hai portato sulla terra il dono del divin volere finalmente adesso noi possiamo compiere lo scopo della nostra santità per cui lungi dal voler dire ecco noi siamo appagati dalla nostra santità umana loro altrimenti non si fionderebbero in ogni atto sono felicemente e beatamente vogliosi di ricevere questa gloria accidentale che si ripete e si perpetua ad ogni atto che si fa sulla terra nella divina volontà perché questo rappresenta il compimento della loro stessa santità quindi sono sicuramente non hanno nessuno dicono ecco finalmente Dio hai grazie perché hai adesso in questo momento stai rispondendo a tutte quante le nostre preghiere stai ci stai dando veramente il compimento e la remunerazione del mille per mille insomma per tutti i nostri sacrifici per i nostri martiri per le nostre preghiere e quindi la loro non è una gloria statica non è una gloria statica e ferma ma una gloria che aumenta ed aumenta ad ogni atto che si fa nella divina volontà e loro quindi sulla terra avendo vissuto in un certo periodo sulla terra adesso possono dire che man mano che il regno di Dio sulla terra si va formando perché questo è l'unico scopo dell'uomo formare il regno di Dio sulla terra e loro vivevano in un altro regime che ha vissuto nel regime del comandamento che ha vissuto nel regime della grazia che è addirittura vissuto nel regime della misericordia avvellata dalla giustizia ancora prima della manifestazione delle leggi insomma nell'Antico Testamento eccetera allora adesso che c'è questo regime del comencello così in terra possono dire finalmente hai dato compimento a tutta la nostra vita alla nostra santità ecco in questo senso loro sono contenti e aspettano i nostri atti ma questo lungi dal renderli insoddisfatti li rende ampliamente soddisfatti perché è una cosa che a loro spetta perché loro trovano come dire io diciamo ho un lavoro ho compiuto un lavoro possono anche loro compiere la loro missione tutte le missioni sulla terra arrivano ad un certo punto e poi si devono compiere in cielo allora ci sono delle missioni al 100% la missione è il regno della divina volontà ci sono delle missioni che sulla terra si sono compiute all'1% e ci vuole un 99% che deve essere ancora compiuto in cielo allora man mano che la manifestazione delle verità nel vivere e nel volere si manifesta qua sulla terra la missione del regno della divina volontà si può compiere sempre non arriva mai al 100% perché quello sarà un 100% infinito che si svolge soltanto in cielo infatti è un 100% fittizio un infinito però si può compiere sempre un pochettino di più sulla terra mentre in terra con la limitazione delle conoscenze limitate non era possibile ovvero si compiva al 100% rispetto a quel tipo di conoscenza voglio dire i santi hanno dato il 100% perché si diceva i santi hanno dato il 100% se i santi branca leone pensavano diciamo che la gloria a Dio si desse martoriando la carne e facendosi non lo so buttare a terra da un masso che pendeva da un albero così oppure facendosi dei segni sulla pelle per punire questa carnaccia eccetera loro questo era il tipo di conoscenza di santità di mortificazione che avevano il Signore lo permetteva lo rispettava lo voleva perché c'è un passo dopo l'altro per cui lui va a manifestare la sua divina volontà e quindi loro hanno dato il 100% rispetto a quel tipo di conoscenza e adesso la loro missione si può compiere perché la missione di una creatura non può essere a livello diciamo celeste la mortificazione della carne no questa è una cosa parzialissima soltanto la missione di ciascuna creatura a livello è il regno della divina volontà e far regnare la divina volontà come dita come un cielo così in terra allora tutto quello che non si è potuto fare in terra non per cattiva volontà viene fatto e ottenuto in cielo questo è quanto dice Gesù Luisa tu credi che i beati e i santi in cielo hanno una perfetta conoscenza della mia divina volontà tu pensi che la mia divina volontà sia perfettamente conosciuta no assolutamente perché perché Adamo aveva le sue conversazioni con Dio nel paradiso terrestre e lui riceveva lezioni di volontà divina lezioni di verità puramente soprannaturali le verità naturali ce le aveva già infuse quelle soprannaturali e le doveva soltanto sperimentare sapeva quant'era bella quant'amore quanta dolcezza c'era nella mela se la doveva solo mangiare non dico la mela del peccato la mela con il frutto purissimo aveva l'infusione della bellezza della potenza di Dio in parte però nelle sue passeggiate al fresco della sera voglio dire quando il verbo il verbo gli parlava nel sonno nell'estasi nella preghiera nella contemplazione gli doveva dire tutte queste bellissime verità tutte 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 allora in un certo momento si è dovuto interrompere allora nel momento in cui si è dovuto interrompere allora anche in cielo tutta quella gloria che avrebbe dovuto trasferire questa conoscenza dalla terra al cielo non si può esplicare perché manca dove manca il seme della conoscenza sulla terra non può diventare pianta albero che so io sequoia in cielo allora man mano che queste conoscenze vengono lette conosciute internalizzate amate applicate attualizzate attualizzate non è una parola difficile vuol dire conoscenze tradotte in atti messe in pratica come atti allora nel momento in cui queste conoscenze vengono attualizzate è come dire creare questi semini che poi alla fine sbocciano come beatitudini in cielo questo è nel volume 13 e queste beatitudini in cielo vanno a vantaggio non soltanto della creatura che le fa come causa diretta ma anche di tutti quanti gli altri come causa indiretta indiretta e tutti godono delle altre membra non soltanto il membro che fa il ginnasta in quel momento ma tutto il resto del corpo tramite il sistema cardiovascolare riceve ecco il beneficio dell'esercizio dell'atto di uno di un membro bellissimo FIAT tre punti esclamativi 3 gennaio del 32 volume 30 sì certezza della venuta del regno della divina volontà sulla terra è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla terra come tutte le difficoltà si scioglieranno come neve innanzi ad un sole ardente la volontà umana è stanza oscura della creatura il mio abbandono continua nel FIAT divino ma mi sentivo preoccupata dal pensiero come mai potrà avvenire questo regno della divina volontà il peccato abbonda i mali peggiorano le creature mi sembrano indisposte a ricevere un sì gran bene tanto che non c'è anima per quanto buone fossero che veramente vogliono occuparsi di far conoscere ciò che riguarda la divina volontà se Dio non opera un prodigio della sua onnipotenza il regno del FIAT divino potrà stare nel cielo ma per la terra inutile pensarci ma mentre ciò ed altro pensavo il mio amato Gesù facendo la sua solita visita all'anima mia mi ha detto ecco cerchiamo di fare qualche considerazione su questo primo paragrafo giusto per non farci sfuggire niente di quello che Luisa comunica all'inizio di ogni capitolo ecco anche qualcuno di voi se può dire quello che da cui è stato colpito in modo particolare a me colpisce quello che dice non c'è anima per quanto buone buone fossero che veramente vogliono occuparsi di far conoscere ciò che riguarda la divina volontà è una sorta di rimprovero velato di Luisa a tutte le centinaia di persone che più o meno le ronzavano intorno ma diciamo pure centinaia magari sì per chiedere delle grazie per conoscenza forse molto meno quelle che conoscevano della divina volontà ecco però lei nota che veramente sono sono veramente poche se non magari non ce ne sta proprio nessuna che abbia dato veramente il cento per cento della propria vita delle proprie intenzioni della propria esistenza corpo e anima per il regno della divina volontà in tutte le sue esortazioni nelle epistole che lei scrive fa ovviamente risponde alle preghiere esorta incoraggia ma poi dice non pensare ad altro che al divino volere non ti preoccupare non pensare ad altra cosa sia quello il tuo primo pensiero il tuo solo palpito la tua sola occupazione e quindi in questo senso possiamo vedere ecco qui siamo nel 1932 vediamo un po' non so in che anno forse è interessante sarebbe interessante sapere in che anno Federico Abresci andò per la prima volta a visitare Luisa nel 1928 no no 28 padre Dio mi sembra infatti infatti la ragione che ho letto che Federico si trasferì a San Giovanni Rotondo nel 1929 quindi sicuramente possiamo ipotizzare che andò per la prima volta alla Luisa dopo il 29 perché prima stava a Modena prima in Germania poi ovviamente a Modena ecco perché forse dico Luisa dice non c'è anima ma forse un'anima che veramente l'unica che noi conosciamo a parte il confessore eccetera il beato Annibale era proprio forse Federico Abresci che aveva dato tutto se stesso tant'è vero che Luisa gli permetteva addirittura di copiarsi di portarsi via un volume farselo copiare dalla segretaria e infatti quando lui legge e certe volte non riesce a leggere dice perché veniva qualcosa con quell'accento un po' tedesco così perché questa persona era tedesca abbiamo registrazioni delle bobbine degli anni 60 e dei cenacoli faccio un po' e questo qui aveva conosciuto Luisa e si era innamorato della divina volontà e Luisa gli parlava di questa divina volontà gli permetteva addirittura di copiarsi di portarsi un volume a casa lui faceva il fotografo il fotografo ufficiale di Padre Pio e ci aveva una segretaria una signorina che gli faceva gli copiava tutto poi lui li riportava a Luisa e negli anni pare 40 50 fino agli anni 60 fino alla sua morte in 69 faceva questi cenacoli a San Giovanni Rotondo dove lui proprio prima mano prima mano forse aveva diciamo trasferiva alle persone quello che lui stesso imparava dei volumi e dalla viva voce di Luisa però sappiamo storicamente che lui era forse abbiamo tra le centinaia di lettere Luisa scrisse a delle persone ne scrisse molti a Federico e sappiamo quanto Luisa lo stimasse ecco però a parte lui diciamo non è che a parte Luisa non è che può darsi pure che ancora non l'aveva conosciuto erano gli inizi no che Luisa fu in contatto con Federico veramente gli ultimi anni della sua vita insomma ma non c'è veramente nessuno per quanto buone fossero che veramente vogliono occuparsi di far conoscere ciò che riguarda la divina volontà se non opera un prodigio della sua onnipotenza il regno del fiat divino potrà stare in cielo ma per la terra inutile pensarci e qui entra Gesù figlia mia tutto a noi è possibile le impossibilità le difficoltà gli scogli insormontabili delle creature si sciolgono innanzi alla nostra maestà suprema come neve di rimpetto ad un sole ardente il tutto sta se noi vogliamo tutto il resto è nulla non successe così nella redenzione il peccato abbondava più che mai appena un piccolo piccolo nucleo di gente sospiravano il messia ed in mezzo a questo nucleo quante ipocrisie quanti peccati di tutte le specie spesso idolatravano ma era decretato che io dovevo venire sulla terra innanzi ai nostri decreti tutti i mali non possono impedire quello che vogliamo fare un atto solo di nostra volontà ci glorifica più che non ci offendano tutti i mali e peccati che si commettono dalle creature un atto di volontà divina è superiore a tutti i peccati e tutte le offese perché il nostro atto di volontà è divino e immenso e nella sua immensità abbraccia tutta l'eternità tutti i secoli si stende a tutti quindi non è della nostra infinita sapienza non dar vita ad un atto solo della nostra volontà per i mari per i mali delle creature noi ci mettiamo dal nostro lato divino e facciamo quello che dobbiamo fare e le creature le lasciamo nel loro lato umano e facendo da sovrani signoreggiamo tutto e tutti anche sul male e mettiamo fuori i nostri decreti ora come fu decreto nostro la mia venuta sulla terra così è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla terra anzi si può dire che l'uno e l'altro è un sol decreto e che avendo compiuto il primo atto di questo decreto ci resta da compiere il secondo è vero che ci teniamo alle buone disposizioni delle creature per dare il gran bene che può produrre un atto di nostra volontà e perciò al più prendiamo tempi e ci facciamo via in mezzo ai loro mali per disporli è vero che i tempi sono tristi gli stessi popoli sono stanchi si vedono chiuse tutte le vie non trovano via di uscita anche per i necessari mezzi naturali le oppressioni le esigenze dei capi sono insopportabili giusta pena che hanno eletti per capi uomini senza Dio di malavita senza giusto diritto d'essere capi che meritavano più una carcere che il diritto del regime molti troni ed imperi sono stati rovesciati e quei pochi che sono rimasti sono tutti vacillanti ed in atto di rovesciarsi sicché la terra rimarrà quasi senza re in mano ad uomini iniqui poveri popoli poveri figli miei sotto il regime di uomini senza pietà senza cuore e senza grazie di poter fare da guida ai loro dipendenti già si ripete l'epoca del popolo ebreo che quando ero vicino a venire io sulla terra rimase senza re e stava sotto il dominio di un impero straniero uomini barbari ed idolatri che neppure conoscevano il loro creatore eppure era questo il segno della mia prossima venuta in mezzo a loro sembra quasi che diciamo il regno della divina volontà potrà veramente arrivare proprio per come è fatta l'umana volontà che non vuole cedere non vuole cedere fino alla fine fino a che non si spezza pare che il regno della divina volontà avrà via libera veramente il signore si potrà espandere con queste conoscenze e le creature saranno disposte veramente quando le creature non ce la faranno più quando saremo arrivati ad un punto che rasenta quasi l'autodistruzione come per dire quando ci saremo talmente dico ci saremo come mondo come nazioni talmente tanto ingarbugliati talmente tanto siamo quasi siamo là infatti ecco diciamo pure che quando è arrivata la redenzione quando il popolo ebraico stava proprio sotto la dominazione loro orgogliosi del loro tempio eccetera venivano presi proprio in giro come dei puzzolenti dei caproni dai romani cioè non era una situazione piacevole il popolo ebraico il popolo scelto aveva un'autostima una dignità diciamo una considerazione di sé come il popolo di Dio quello scelto la più grande nazione il popolo di tutte le tutte le profezie delle sacre scritture che in realtà si riferiscono all'umanità cristiana e storicamente l'abbiamo detto pure ieri diciamo storicamente sono rivolte al popolo eletto degli ebrei però che situazione si trovava questo popolo eletto era la frutta era la frutta veramente e adesso veramente come ci troviamo noi in una situazione che è molto molto simile sembra che diciamo le cose positive che possono succedere o le notizie positive sono quasi un'eccezione rispetto a tutta la caterva di catastrofi che si verificano che quasi quasi lasciano pure indifferenti si è sviluppato una sorta di cinismo ho notato anche il tono di voce dei commentatori nei telegiornali dice è morto è trucidato intervista alla madre così capito oppure non lo so tutti questi accoltellamenti voglio dire tutto non lo so anche il livello della morale diciamo per le strade dappertutto nelle scuole di tutto si lasciano avere della scuola ecco non è che vogliamo stare qui a fare del moralismo però veramente vogliamo riconoscere che siamo veramente alla frutta anche noi e questo è una cosa brutta però in un certo senso ci dice che siamo veramente pronti a quella manifestazione forte della divina volontà che deve un po' scardinare tutte le umane volontà non lo so per esperienza io devo dire avendo un'umana volontà molto ostinata da quando ero bambina mi sono trovata ad essere riportata sulla retta via dei miei genitori quando mi sfasciavo veramente mi battevo la testa contro il muro prima non la volevo capire allora mi ci è voluto un incidente di motocicletta a 18 anni perché se no ero partita da quelle sfere poi dopo qualche anno mi ci è voluto un altro infortunio un'altra situazione un altro dolore per riportarmi su un'altra retta via ecco diciamo che un po' incarno proprio la ostinazione dell'umana volontà che non pare voglia imparare dai propri errori che appena diciamo prende un pochettino di confidenza si ringalluzzisce dice ma io posso fare da sola e poi boom un'altra volta e va bene comunque continuiamo a leggere tra quell'epoca e questa in molte cose si danno la mano e la scomparsa dei troni e degli imperi e l'annuncio che il regno della mia divina volontà non è lontano qui fa riferimento diciamo alle conseguenze proprio alla dissoluzione dell'impero ottomano cioè dopo la prima guerra mondiale tutti quegli imperi anche l'impero romano cioè d'oriente eccetera si sono tutti dissolti e adesso non è neanche la fine perché poi tra qualche anno comincerà la seconda guerra mondiale e quindi anche qui si avrà la seconda botta e il segno in un'altra parte in un altro capitolo dice il segno che il tempo non è lontano è proprio il fatto non soltanto che si verificano queste cose è proprio il clima di incertezza generale ma anche il fatto che io sto manifestando queste cose il vero la vera ragione insomma il vero fatto cioè il fatto stesso che sto manifestando queste verità vuol dire che il tempo non è lontano altrimenti mi sarei avrei aspettato qualche altro secolo insomma per 27 anni che appare la Madonna insomma è altro che per 27 anni diciamo giornalmente più tutte quante le apparizioni in tutto il mondo in Asia in Corea in Rwanda in Italia in tutte le parti d'Italia la Divina Volontà e apparizioni negli Stati Uniti in Sud America con Valenzuela in Colombia e chi più in Brasile chi più ne ha più ne metta ecco questa è proprio la missione preparatoria quando nel libro della Vergine Santissima maternalmente premorosa mi metto all'opera e vado da tutti quanti insomma per poter preparare il Regno della Divina Volontà Gesù stesso nell'appello quando dice se mi darete la vostra volontà è tutto fatto mi renderete felice sarete felice in un altro sospiro che la mia volontà regni mentre voi il cielo e la terra vi sorrideranno la mia mamma celeste vi farà da madre e da regina già essa conoscendo il gran bene che vi riporterà al regno del mio volere per appagare i miei desideri avventi per farmi cessare di piangere ed amandovi davvero i suoi figli va girando in mezzo ai popoli delle nazioni per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo e terra e a lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime i popoli per ricevere un dono si grande immaginiamo immaginiamo che grande onore che abbiamo il privilegio di essere stati esposti a queste verità quando tutti quanti i movimenti carismatici devozionali le varie apparizioni di nostra Maria Santissima sono missioni preparatorie sono tutte missioni preparatorie sono tutte missioni funzionali e strumentali per il regno della divina volontà una volta approdati a questo non vuol dire necessariamente lasciare la stessa madonna che parla sia qui meggi cuore non parebbe dice no meggi cuore dice le cose io sono laureato ormai non ho bisogno di sentire no quello no questo è un atteggiamento che non è diciamo proficuo però veramente diciamo dopo che si approda a questo non c'è nient'altro a cui gli posso perché si approda veramente al massimo del dono che Dio vuole dare alle creature alle creature già le nazioni continueranno a dibattersi tra loro per chi guerra per chi rivoluzione tra loro e contro la mia chiesa hanno un fuoco che li divora in mezzo a loro e non dà loro pace e non sanno dar pace è il fuoco del peccato è il fuoco del fare senza Dio che non dà loro pace e non fanno mai pace se non chiamano Dio in mezzo a loro come regine e vincolo di unione e di pace immaginiamo tutta la storia diciamo dei palestinesi e degli israeliti questa storia così atroce di guerra civile tra fratelli quasi di sangue e finché non ci sarà proprio l'unione verrà chiamato Dio l'unico Dio a fare pace a voglia a fare i trattati le alleanze siamo vicini non siamo vicini ma quello è l'esempio lampante di quello che ci sta dicendo Gesù e Dio li lascio fare e farò toccare con mano che significa fare senza Dio questo è Dio è Dio diciamo Dio che rispetta la libertà ma è anche è Dio che diciamo deve lui stesso sopportare il dolore di vedere i suoi figli che si sfracellano tra di loro perché sa che se fa eccesso il contrario non farebbe loro del bene perché non avrebbero imparato la lezione che se Dio Dio potrebbe intervenire potrebbe fare tanti miracoli diciamo e mettere pace e così colare ma se l'umana volontà dal profondo non la capisce passa un po' di tempo e siamo punte da capo e poi l'uomo si renderebbe doppiamente colpevole e lì come dire una volta che tu sei stato liberato da una legione e vai a chiamarti tre legioni a quel punto diventa un po' più difficile e io li lascio fare farò toccar loro con mano che significa fare senza Dio ma ciò non impedisce che venga il regno del mio fiat supremo questa è tutta roba di creatura del basso mondo che la mia potenza quando vuole atterre e disperde fa sorgere dalla tempesta il cielo più sereno e il sole più fulgido mi colpisce il fatto che mentre all'inizio della missione di Luisa quasi la sua storia era intrecciata con la storia quasi politica dell'Italia della Francia della guerra addirittura dei castigli delle vigne delle grandinate attorno a Corato c'era tutto questa diciamo fusione questo mischiarsi della storia di Luisa come parafulmine per la giustizia divina dal volume 12 in poi Gesù dice a Luisa lascia da parte la terra adesso li dobbiamo lasciare fare adesso ti chiamo a te ad una missione tutta speciale devi fare il più non puoi occuparti del meno devi stare tra cielo e terra non puoi stare lì a spalare diciamo il fango non perché devi dare il più ai tuoi fratelli se Luisa avesse voluto continuare a fare il parafulmine di giustizia vi sarebbe stata un'altra anima vittima come ce ne sono tantissime sono utilissime sono quelli che salvano il mondo però non avrebbe compiuto la sua missione infinita del regno della divina volontà e quindi Gesù chiama proprio Luisa a dire adesso lasciamo da banda la terra fai che facciano quello che gli pare tu ti devi se Luisa stava lì a leggersi il giornale o a chiedere a padre Annibale ma che sta facendo l'Italia così allora Gesù assolutamente tu no a un certo punto Luisa da qui in poi comincia e fa soltanto girino nella divina volontà si occupa di queste verità quasi estranea come dire lui sa spegne la televisione no che è un po' quello che nostra madre santissima ci dice pure a noi non è la stessa cosa non so se l'ha detto specificamente però poi l'ha detto l'ha detto ha detto spegnete la televisione ecco quindi diciamo nostra madre santissima proprio oggi ci fa vedere come sta facendo tutto in modo assolutamente armonioso e preparatorio a quello che vuol compiere Gesù con la divina volontà invece il regno della mia volontà è dell'alto del cielo formato e decretato in mezzo alle divine persone nessuno ce lo può toccare né disperdere prima lo tratteremo con una sola creatura formando il primo regno in essa poi con pochi e poi facendo uso della nostra onipotenza lo divulgheremo dappertutto è interessante come ecco prima con una sola creatura questa creatura viene isolata quasi messa in una camera iperbarica proprio addirittura ispirato dallo spirito santo Sant'Annibale diceva alle creature non la baciate non le state a toccare sempre a lui perché c'era questo attaccamento umano così dice questa creatura è una creatura più di cielo lui aveva una venerazione proprio per Luisa diciamo magari era lui che se la voleva abbracciare come era lui no però ecco voglio dire la gelosia di Gesù nei confronti di questa creatura è insuperabile era voluta isolare diciamo da tutti era voluta isolare da qualsiasi forma di affetto di attaccamento umano perché la doveva concentrare una missione talmente forte talmente potente come immaginiamo un primo astronauta che deve andare sulla luna non si può mettere a fare altre cose deve preparare tutta la sua mente il suo corpo e la sua psiche a quella missione e lo stesso pure Luisa è dedicata al 100% alla missione della divina volontà poi pochi e i pochi iniziano con il sacerdote il sacerdote è l'unico che dopo che Luisa scriveva arrivava la mattina dopo e il sacerdote diceva vabbè Luisa che ti ha detto Gesù la notte scorsa allora si iniziava a leggere e poi questo a porte chiuse e poi addirittura questo iniziò soprattutto il padre Gennaro di Gennaro che forse non lo conosciamo abbastanza perché è uno dei confessori di cui si parla poco fu il terzo confessore di Luisa e fu confessore per un periodo lunghissimo penso di 24 anni sì dal non lo so fino al 1922 qualcosa dal 98 al 22 1898 fino al 22 e fu lui che diede appunto l'ubbedienza a Luisa di scrivere fu Luisa che iniziò il volume 2 a scrivere per obbedienza al confessore dico quello che inizio a scrivere quello che passa tra me e Gesù ah l'ubbedienza soltanto per te riesco a superare questa mia reluttanza come monti insormontabili mi vorrebbe far sfuggire e questo confessore diciamo scriveva pure dei poemetti e si mi diceva Luisa ho tenuto il tuo libro sotto il mio cuscino questa notte sperando di poter trovare lumi eccetera è una persona molto diciamo sorassunta avendo scritto ha pubblicato qualcosa di padre di Gennaro e lei ha grande stima diciamo lo promuove moltissimo perché si parla molto anche degli altri confessori Benedetto Calvi di Sant'Annibale ma poco si sa veramente di questo grandissimo confessore cioè questo speciale confessore di Luisa che fu il primo ad essere ispirato e il primo che veramente si dedicò a lei anima e corpo andando da lei tutte le mattine andandola a svegliare da quello stato di diciamo rigidità rigor morti eccetera ecco e quindi era prima il confessore poi ovviamente il padre Annibale che diventò addirittura per nomina del vescovo il censore ufficiale degli scritti per scopo pubblicazione insomma e poi diciamo se era lui e poi qualche altra anima Zia Rosaria che si intuffava qualche volume qua e l'altro e se lo leggeva e questo anzi vedi vedi ieri dicevamo il 35 e il 36 erano adesso sono in mano tu dici no 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 c'è letto padre Gustavo sì sì e la ragione per questo che quando vennero confiscati dal Vaticano il 35 e il 36 li stava leggendo Zia Rosaria capito allora stavano tutti quanti nella terra insomma tutti quanti cosati e lei ce l'aveva intuffati nel suo armadietto preso tutto 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 andate via e lei invece ce l'aveva lei poi gli sono rimasti evidentemente come Zia Rosaria che poi è morta nel 73 lei ha conosciuto forse qualcuno gli ha dato questi originali di questi ultimi due volumi no e quindi diciamo questi pochi questi pochi erano Zia Rosario questi pochi erano Federico Abres questi pochi erano la signora Bettinelli della Toscana le signore Cimadomo qualcuno di qua e di là i sacerdoti santi che andavano a visitarla padre Ostacchio Montemurro eccetera eccetera e i pochi i pochi siamo pure noi se vogliamo e poi sempre di più sempre di più utilizzando pure mezzi tecnologici come l'internet come diciamo cose che si stanno verificando adesso sebbene adesso la chiesa diciamo ci ci chiama la prudenza perché la causa di beatificazione diciamo deve essere portata avanti così ma questo è un altro discorso comunque possiamo vedere come siamo nel numero dei pochi insomma e la divina volontà volenti o nolenti gli uomini sta utilizzando proprio i grandi mezzi di comunicazione quelli per cui un click basta per far arrivare la divina volontà in tutto l'universo orbe e se accorato arrivano pellegrini dal Giappone dall'Australia e anche proprio per quello altrimenti certo non è rimesso su internet no 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 su internet non c'è un sito ufficiale quello no 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 sì no un sito ufficiale con gli iscritti non c'è mai stato un sito ufficiale con gli iscritti non c'è mai stato è sempre stato sì 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 ma non è un sito ufficiale un sito ufficiale un sito supervisionato un sito di cui era conoscenza diciamo la chiesa e tutto quanto è corato ma un sito ufficiale non c'è diciamo però ci sono voglia nel mondo chissà quanti siti ci sono anche in spagnolo che ci hanno questi iscritti così non so adesso io lo posso anche dire adesso stiamo registrando però sicuramente bisogna diciamo avere così prudenza e quello che ci pare però io gli ho sentito proprio di chiamare i picchieri e ci ho parlato sì sì e gli ho detto io volevo semplicemente dare una testimonianza positiva sono italiana ma vivo negli Stati Uniti da 14 anni dove ci sono anche dei gruppi nella divina volontà e volevo dire sa su eccellenza è impossibile fermare gli iscritti di Luisa l'ho fatto me ne rendo conto per cui diciamo che la chiesa deve avere diciamo una sua direzione così però non è che stanno lì col fucile spianato diciamo ecco non è che la chiesa non vuole che si parli di Luisa no la chiesa vuole la chiesa ha soltanto timore che se ne parli in modo sbagliato e allora infatti se ne parli in modo sbagliato ma non è che non vuole vuole voglia perché poi lo fa diffondere però nel lungo funesto non parte non resto ma proprio il patire che avrebbe nel partire che avrebbe nel restare perché l'arcivescovo ha detto senza una guida sicura è difficile ma ha detto lui certo senza una guida sicura è difficile ma come si fa a sapere qual è la guida sicura a posto Gesù è la guida sicura chi è l'unica sicura sì sì certo non ti preoccupare che i mali peggiorano peggiorano la nostra potenza il nostro amore vincitore che tiene virtù di sempre vincere la nostra volontà che tutto può e che con pazienza in vita sa aspettare anche secoli ma quello che vuol fare deve fare vale più di tutti i mali delle creature davanti alla sua potenza invincibile ed il suo valore infinito saranno come goccioline d'acqua i mali di esse come tanti non nulla che serviranno al trionfo del nostro amore ed alla maggior gloria della nostra volontà compiuta e poi quando avremo la grande gloria di formare questo regno dentro di una sola creatura essa sarà come sole e che tutti hanno diritto di godere e possedere la sua luce più che sole darà il diritto a tutte le creature di far possedere un regno sissanto e noi con sapienza infinita abbonderemo di grazie di luce di aiuti di mezzi sorprendenti perché facessero regnare il regno della mia volontà in mezzo a loro perciò lasciami fare quando te l'ha detto Gesù basta e come ci ha fatto tutti i mali e tutte le creature insieme non hanno potere né diritto sulla nostra volontà né possono impedire un atto solo della nostra volontà voluta con decreti della nostra sapienza a noi pare quasi ci sembra quasi strano ma Gesù ma perché aspetti ma perché indugi perché sembra che tutto vada male e Gesù fa queste come dire queste sparate queste arringhe e a noi sembra quasi che questo vada a detrimento della gloria divina lui invece dice tutto il contrario dice questo andrà a aumentare la mia gloria divina e questa è una cosa che noi non riusciamo a comprendere e come dire nella sapienza divina c'è anche il fatto di volere e di saper attendere e questa è una delle cose più difficili per la creatura umana il fatto di volere e saper aspettare e invece Dio con pazienza in vita conosce tutti gli atti e tutte le conseguenze di tutti gli atti sa qual è il momento opportuno per agire così come sa qual è il momento opportuno per chiamare ciascuna creatura all'eterno all'eternità il momento opportuno della morte è il momento di massimo beneficio della creatura se quella creatura diciamo morisse un secondo prima un secondo dopo sarebbe peggio per quella creatura e Dio chiama tutte quante le creature ciascuna creatura quando questa creatura ha dato il meglio di se stessa il massimo di quello che poteva fare che poteva fare magari la chiama prima che questa creatura avesse commesso magari un peccato grave oppure la chiama dopo immediatamente dopo che ha commesso un atto eroico oppure la chiama in un momento in cui ecco questo è un atto sempre un atto di misericordia quindi anche questo attendere anche se sembra che la gloria deve aspettare però è la misericordia e l'amore che gridano più forte e la gloria sa tacere per un momento e sarebbe una sorta di armonia tra tutti gli attributi di Dio uno si mette un attimino più in basso gli altri sembrano prevalere però diciamo che in un tutt'uno se uno li somma tutti si viene sempre massimizzata la somma onde seguiva a pensare il fiat divino e il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia la mia volontà è luce la volontà umana è la stanza oscura in cui vive la povera creatura come entra in questa stanza oscura il mio volere così resta tutta investita da questa luce che tutto illumina anche i più remoti e piccoli nascondigli dell'anima la mia volontà si fa luce del pensiero della parola delle opere dei passi ma con una diversità meravigliosa il pensiero prende una varietà di colori animati dalla luce la parola prende un'altra varietà di colori l'azione il passo altre varietà di colori e come la creatura ripete il pensiero la parola l'azione il passo animata dalla luce della mia volontà così si formano le sfumature dei colori divini e la bellezza è che tutti i colori sono animati dalla luce oh come è bello vedere la creatura animata dall'iride dei nostri colori divini è una delle scene più belle che essa ci presenta e ci fa godere la guardiamo e vediamo che non sono altro che il riflesso dei nostri pensieri delle nostre azioni e così di seguito che ha formato la varietà dei nostri colori divini è la nostra volontà che fa sfoggio di luce negli atti della creatura che col suo dolce incanto ci rapisce e ci fa spettatori degli atti nostri e oh come aspettiamo con tutto amore la ripetizione di queste scene si belle e dilettevoli è bello vedere in quest'ultima parte quest'ultima diciamo paragrafo tutto il tema della luce dove il vivere nella divina volontà è sempre luce e mi pare nel volume 17 dice ma che è sta luce si parla sempre di sta luce la luce Gesù è la luce la luce la definisce come la verità conosciuta amata e messa in pratica quindi potremmo dire che queste conoscenze sono la luce che viene messa nella nostra stanza e poi diciamo senza con questa luce ci dà la possibilità di vedere tutto quello che è disordinato dove i mobili sono pieni di polvere ci sta una poltrone in mezzo il letto è disfatto un sacco di carte per terra eccetera alla luce di questa luce invece sarebbe da folli come dice Gesù non mettersi all'opera per riordinare quello che si vive che si vede in disordine all'interno e poi diciamo che il vivere nella divina volontà non è vivere nella stanza di se stessi ma proprio uscire dalla stanza infatti il primo gradino è quello di ricevere attraverso la finestra un po' di luce nella stanza il secondo gradino è il vivere nella divina volontà e uscire fuori mettersi al sole no? dice già comunque c'è ancora i piedi per terra è attaccata diciamo magari un po' rassegnata però almeno si è messa in ordine con le passioni il terzo gradino è quella invece in cui la creatura è completamente ecclissata dalla luce è proprio inondata fa un bagno completo di sole però questa creatura sta ancora in terra diciamo il quarto gradino è quello in cui la creatura viene addirittura assorbita dalla luce stessa dalla luce del sole questi sarebbero i quattro livelli del vivere nella divina volontà insomma e ogni volta che uno si vuole magari vedere ma io a che livello sto c'è sempre qualcosa ancora da riordinare nella stanza la pagina 119 in fondo dice 119 in fondo Gesù ci ricorda mia figlia Benedetta è tanto grave fare la propria volontà l'8 maggio del 32 sì bravo 8 maggio 32 sempre nel volume 30 è tanto grave fare la mia fare la propria volontà che sarebbe male minore se la creatura impedisse il corso al sole al cielo al vento all'aria all'acqua eppure impedendo questo corso succederebbe tale disordine e terrore che l'uomo non potrebbe più vivere eppure questo gran male sarebbe nulla a confronto del male grave di fare la propria volontà perché con questo impedisce il corso non alle cose create ma al suo stesso creatore Adamo col sottrarsi dalla nostra volontà arrestò il corso dei doni che essa doveva dare alla sua amata creatura se avesse potuto avrebbe costretto Dio all'immobilità il nostro ente supremo col creare la creatura voleva stare in corrispondenza continua con essa voleva darle ora un dono ora un altro voleva farle tante belle sorprese non mai interrotte ora come la creatura fa la sua volontà così tacitamente dice al suo creatore ritirati non ho dove mettere i tuoi doni se tu mi parli non ti capisco le tue sorprese non sono per me io basto me stessa e il coraggio mi dice ciò che non ritirati le tue sorprese non sono per me io basto me stessa perché senza della mia volontà che è sua vita primaria ha perduto la vita la capacità dove mettere i miei doni di comprendere il nostro linguaggio celeste e si rende strana alle nostre più belle sorprese la creatura col non fare la nostra volontà perde la vita divina l'atto più bello più interessante più necessario della sua creazione e del come fu creata da Dio ecco perciò come l'uomo si sottrasse dal nostro fiat si disordinò in modo che ad ogni passo vacillava perché si distaccò respinse l'atto vitale della sua vita la volontà divina è l'atto vitale della nostra vita e si distaccò dall'atto stabile permanente che doveva vivere che doveva vivere con lui come una sola vita quale la nostra divina volontà di modo che ci sentiamo Dio si sente immobilizzati ci sentiamo immobilizzati dall'uomo perché vogliamo dare e non possiamo vogliamo dire e non ci intende è come se da lontano facciamo sentire i nostri dolorosi lamenti col dirgli oh uomo finiscila richiama in te quella volontà che respingeste essa non bada ai tuoi mali e se la chiami è pronta a prendere il possesso e a formare il suo regno in te il dominio di pace di felicità di gloria di vittoria per me e per te dei non voler essere più schiavo né vivere nel labirinto dei tuoi mali e miserie tale non ti creai ma ti creai re di te stesso re di tutto perciò chiama la mia volontà come vita chiama la mia cioè ripeto più volte chiama la mia volontà come vita e ti farà conoscere la tua nobiltà e l'altezza del tuo posto in cui posti messo da Dio oh come ne sarai contento e contenterai il tuo creatore